Buonasera, 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 scusate, mi roba un pelo al volo perché stavo facendo mille robe insieme e aggiungo lino Bravo, come la masturbazione Coglione di merda Sto facendo la storia Instagram, non ho ancora fatto G e K K e L to spaziali Da dove parla? Ma da dove parla? Da quale buco? Ah, non vi sento, non ho perché è mutato, sì Perché adesso c'è il mixer nuovo e quindi siete in tre tracce separate Ah, addirittura Che bello finalmente, sì Sono molto contento Bravo, come vi sentite? Ha detto una cosa sulla masturbazione, Karim Ho fatto una vecchia battuta del 1996 Vorrei tanto sentirla, però Ho detto buona sega Ah, perché? Va bene, però è bello Ma poi pensavo di essermela scappata perché non mi si sentiva invece ma scappata Io l'ho fatto ripetere anche Che vao Mi sembra più che giusto Vi prego, quando apriamo questo gioco che sto giocando a qualcosa di terrificante Mi sento male Sto giocando a Getting Up in prima persona A cosa? Oh, madonna Lo ricordate a Getting Up? È un gioco con lo stesso concept, però in prima persona Mi sento male Non ce l'ho mica presente, sai Aspetta, Getting Up è quello dove spray i muri? No, è quello, forse non si chiamava così Ma Getting Over it, ti imbecile Ma Getting Over it Vabbè, ragazzi Eh, ma getting up è quello dove fai gli spray i muri, ve lo ricordo Ho detto a me in prima persona, non sembra malissimo No, no, è quello Perché sono altissimi di via basso Ragazzi, non riesco a salire sulla scatola Vaffanculo, mi arrendo Getting Up Se si vieta le robe Perché vai su Esattamente Grazie mille a Leonat per 24 mesi a Demarys per il 50 50 mesi di canze che storia, cari in culo Va bene No, come però Immagino che Leggevo la chat Scusami Quindi tutto a posto? Sì, sì, io sì, voi? Sì, tutto bene Tutto bene Sto provando il green screen della sedia Mamma mia, incredibile Giusto, aspetta, voglio aprire questa live Ehi, guarda, funziona l'amore Però ti faccio vedere una cosa Cosa c'è? Niente Aspetta che rimane uno nuovissimo Che secondo me ti piacerà da morire Dimmi qualcosa Ehm Tanti aug... Oh, affanculo Sono spaventato Non so perché l'hanno messa È proprio una roba molto specifica Poi c'è questo Ma puoi essere anche tu, è vero? Giusto? Sì, sì, sì Questo mica era incluso, scusami Non era con il mix L'immagine sarebbe incredibile E tra l'altro finalmente hanno capito Che serviva più memoria Io ho messo tutti i pre-live di tutte le stagioni E anche 47 minuti di Animal Crossing Ok Nel mixer È proprio dentro Ah, la colonna sonora? Sì Che posso mettere sottofondo mentre parlo così, no? Vedi? Carino, carino Ah, molto figa come cosa Finalmente l'hanno capito Quasi perfetto, eh? Sì, vuoi dire una cosa? È incredibile Ma anche le bretelle sono in green screen Quindi ti traglia Buonasera Finalmente siamo a 12 Allora, ti dico solo una cosa Allora, mentre chiusciamo questo gioco Che tanto stavamo giusto per parlare Aspetta che non ho visto io l'ino invece in green screen Mandami anche la richiesta di cazzi in culo Vai, lo faccio subito Qui, lascia stare che sono in una stazione Prima ero in un posto peggiore Sulla scrivania Ho messo un altro green screen Così posso appoggiare i comiti E non si vede che è tagliato Però in alto a destra c'è un piccolo problema In alto a destra vedo una serranda In basso a destra invece c'è il braccio tagliato Quindi non c'è niente che funzioni Funziona benissimo Ma sì Guarda che appena muove la sedia fa così E mi viene innamorato C'è uno spigolo di serranda Ma guarda posso appoggiarmi su niente Ma basta che tagli un pochino la webcam Lo spigolo sparisce Tanto arrivi poco sopra la tua testa Non mi piace che se mi giro così Sei stato bravo ad aver messo la cosa sulla scrivania Quella è carina come cosa Queste sono le idee buone Allora tu vuoi una richiesta? Tu vuoi una richiesta? No io voglio niente No tu hai detto che vuoi una richiesta E io ti do una richiesta No non lo voglio tagliare Devo già aprire il gioco? Io l'ho già aperto Cioè non l'ho mai chiuso in realtà Io mi stavo facendo i cazzi miei Ok allora Un secondo che ve la mando Io ho un po' paura di questo gioco Stavo piccando sul gatto sul tubo Ma che sto impazzendo Un secondo Cos'è che ho fatto io? Stavo entrando nel tuo canale Non so per quale motivo Eh beh salutami Subati No ho fatto sempre tutti i mesi Gatto Anche torre subarmente offline Allora L'ho visto Dica 18 Dica dica Perché dici sempre di ciò Il gatto sul fan phone Allora Ecco qui Grazie mille Giulia Rieccoci buona live Anche a lei Grazie mille È vero è vero Non possono capire Oppure di nuovo alla biglietteria Eh ma non capisco Ciao Grazness Buonasera Ci sono arrivato dopo Mentre lo stavo dicendo Ho concepito Il No auguri Scusa Non ancora Sei proprio una testa di cazzo Lì Proprio enorme Fa dire È vero Sei in perfetto sincrono con l'inno Se guardo sulla live mutata La sento chiamata e precisa È la prima volta che succede In anni di squad Ma infatti è incredibile L'ho letto anche io prima È assurda questa cosa Tra l'altro Adesso che ho questo nuovo mixer Purtroppo non posso gestire Le vostre voci dal mixer E questa cosa è una merda Devo farlo comunque da OBS Tuttavia Non vi parlo più sopra Perché non devo più usare Voice meter Che mi dava mezzo secondo Di ritardo Che per me è una roba Incredibile Sì Quella cosa lì Era stata assurda Che tu l'hai fatto Per quanto Un anno intero Madonna Eh perdona Non ci sono altre soluzioni Eh Ciao Grazness Adesso funziona Semplicemente perché C'ho il mixer in uscita Con più Con più cose Posso alzarvi E abbassarvi Per me Non per la chat Però Secondo me lo passeranno Ho capito Eh sì Non c'è il controllo Del Del volume Tramite il mixer Però sta funzionando Veramente bene Voi come mi sentite? Mi sentite bene? Ti sento molto bene Assolutamente sì Assolutamente sì Adesso ditemi in chat Come sentite loro Però sembra I livelli sembrano tutti corretti Ho provato voice meter Per cinque minuti È una merda voice meter Però Se devo separare l'audio Vabbè che stasera non registro Però di solito registro È importante Separare il mio audio Dal loro audio Da quello del gioco Certo No questo è per Esatto E tra l'altro ho fatto un'altra cosa Che magari può tornare utile anche a voi Non so se Se può Cioè magari sono stupido Ci sono arrivato io L'altro giorno E basta Avete presente che c'è un ritardo Della webcam Rispetto alla voce Quindi tu devi rallentare Il tuo microfono Ciao Dabula Sì Esatto Tu rallenti il tuo microfono Così in sync Con la tua voce Però Mi è venuto in mente Che se tu canti una canzone Che senti In un gioco O una canzone Che stai riproducendo Non sei in sync Perché tu sei rallentato Di Sì esatto Di 106 millisecondi Quindi cosa ho fatto? È vero Ho rallentato Anche l'audio del desktop Ho rallentato anche L'audio di discord E ho rallentato anche Il gioco stesso Cioè tu puoi rallentare Il rendering Del video Così è tutto in sync adesso Sì Implementamente sì Ci sta E niente Se era una roba Che vi interessava sapere Adesso sapete L'unica L'u Sì No No Se tu Devi rallentare Per ogni sorgente Cioè quindi devi rallentare Il render del gioco E anche È quello che volevo dire È anche Chrome Sì 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 Però io ho solo un game capture Devo sistemare quello di Sea of Thieves Solo Sea of Thieves Mi pare che non ho rallentato E quello di Google Chrome Per il resto Sei tranquillo Padilla una Sì no ci sta Bravo bravo Complimenti Stai espandendo il tuo cervello Sì Eh vabbè Perché cantavo le canzoni L'altro dia mi diceva Guarda che sei fuori sì Che io no Non ci avevo mai In realtà sai che non ci avevo pensato A sta cosa della canzone Perché pure io C'ho questa cosa qui Non ci avevo mai Non mi era mai passato Per la testa Eh vedi Guarda che delle volte Eh Nel mentre lì Ha un cerchio verde È sulla testa Raga perché la mia Rasatura La vede un pochettino verde Quindi sti cazzo Grazie mille Perché riflette la luce La lei di Kerem di oggi Poverigio mi ha fatto scompicciare Mamma mia Come potevano perdere questa sera Guarda guarda Come si vede Quando mi vuole Grazie mille Grazie a Omnicol Per i 18 mesi A Damba Salve Gatto Le sue benedizioni funzionano E chiederei una Per salvare questo periodo Fortunato Per continuare Certo Tantissimi auguri Grazie La testa pelata di vino Riflette il colore verde Che riflette la luce Eh Del green screen Quindi Esattamente Non riflette così tanto Aspettate L'hai capita Ma che Perché non pensa Bravo Esattamente quello Stavo pensando E allora va bene Anche lui Che dice Che dice auguri a concepire Va bene Sì Beh certo Per lo stesso motivo Lo del gioco mi sembra un po' importante Lo abbasso leggermente tanto Ecco qua Cos'è Cos'è stato questo insieme Col casino Guarda tu Ti sei persa la live di oggi pomeriggio Che è stata una roba Dai È solo la seconda volta Che succede In una live Ma non regge Non regge le bretelle Non le ho strette benissimo Che vuole lo sistema Perché so io che mi muovo un sacco Non so stare come gli animali Fermi Mi muovo e basta Però c'è da dire che Cioè quella cosa lì Funziona bene Perché mi ricordo che L'avevamo vista anche io Gatto anni fa Quella Esatto Sai che quella roba lì Io l'ho vista nascere L'hai vista la prima volta L'ho vista la presentazione Perché ero al TwitchCon 2017 E l'avevano appena inventato Ed erano lì Con sta cazzo di sedie Sto cazzo di green screen E hanno cercato di vendermelo E io ho detto Guarda non saprei proprio come Non credo Fun sia un'ottima idea Funzionare funziona Il problema è che Proprio da stupidi Non devi stare fermo No ma È proprio da scegli Mettere Le bretelle verdi Ma perché hai messo Le bretelle verdi È stupido no? No perché È veramente un'idea di me Eh sì perché adesso Si vede guarda Perché gli fa il green screen Sulla sedia Cioè gli fa le strisce Di green screen Eh lo so però Se tu non le metti così Quando si attaccano Fanno lo stacco Ah no Allora Il modello che avevo visto io Ai tempi Non aveva queste bretellone Così ingombranti Ma non Cioè è un costo di 30 euro Di pezza È il taroccone Sì perché Quello che avevamo visto noi Aveva la bretella sotto Il sedile Non incrociata Era una cintola era Esatto Era tipo la cintola No è un costo di pelle Che l'ho preso giusto Così mi fa una risata Infatti mi sono molto divertito Oggi nel pre-line Ma l'importante è quello Se tu ti diverti Io sono contento Ma tantissimo Io sono contentissimo Quando ti diverti Tra l'altro ho speso 30 euro per comprare Il telo grande 30 euro per questo Compravo l'elgato Però vuoi mettere Dai c'ho un telo Per la scrivania Guarda posso appoggiare i comiti Lino è la dimostrazione Di quello che io dico Da una vita Certe volte Conviene spendere Direttamente subito Conviene spendere subito I soldi Che vuoi spendere Perché tanto poi Alla fine ci arrivi E gli spendi uguale Cioè no Assolutamente Sì Cioè lui Lui con tutti i soldi Che ha speso In queste puttana Che poi butterà via E dopo comprerà Anche l'elgato Comprava direttamente L'elgato E non spendeva Due volte i soldi Però Però Chi più spende Meno spende Ciao Aspettate Aspetto Aspetto Intanto creo la partita Creo la session Siamo E' un incubo E' un incubo Io con Final Cut Vado veramente a vedere Con il green screen Perché vabbè Ormai nei gameplay Uso sempre quello Ogni tanto Viene di merda Ma perché non mi illumino bene Vi potete unire Scusatemi Mi devi dare il codice Play with friends Ma ve lo dico La voce Tanto dubito Che si infili qualcuno Chi è che ha comprato 30 euro di sto gioco Ci siete? Join Allora Guardate come si vede La segna tagliata Pronti? Sì X Z Maiuscolo Z Tutto caps Quindi credo di sì Io la lascio così Non mi indesiti Deve vedere X Z F 5 P F Ma il mio codice fiscale E confermo Si vai Ti chiami infatti X Spons Oddio posso scegliere Il francone Bello Vabbè io prendo Quello che mi fa più ridere Non avevo dubbi Benissimo Quello con i bar Il meccanico Io faccio il medico Ma voi vi siete veniti Scusatemi Sì sto scegliendo Il personaggio Ah ok Il medico Eccolo là Solo umido Golfini e fantoni Ma è scritto Talmente piccolo Che per me Non ci siete Nella partita Pensa Tra il nome E il Come si chiama E la professione C'è scritto Profession E starting item Ed è talmente piccolo Che la risoluzione Lo fa tutto Spondato Possiamo giocare al massimo In tre No Sei No non credo Perché mi dice Start game Perché siamo A tutti e tre Ready Io non ho premuto Ready Ma ok Vabbè Perché abbiamo scelto Il personaggio È scelto Quindi fatto Ah Dici che quando scegli Ok 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 Sì Parto Grazie a Davide Per i 20 mesi A roccia Per i 44 E Gio Pitti Buonasera Non lo seguo da tanto tempo E finalmente sono riuscito A rifare la sub Ne approfitto Per chiedere la benedizione Per gli esami di questa sessione Grazie mille In due secondi Vabbè Allora Facciamo prima Spiegatelo noi Anche perché il tutorial Aveva una roba di merda Ti diceva Con il tasto shift Corri E devi premere Esc Per chiudere il pop up Sì Ma poi C'era tipo La classica Cassa per terra Dove devi Spremere spazio Per saltare E c'era scritto Sulla cassa Salta Tipo jump Ma poi ti doveva Aprire il pop up Per dirti Spremi spazio Per saltare Ma scrivelo lì Sulla cassa Invece di scrivere jump Premere i rischi Per chiuderlo poi Ma vaffanculo Ma che merda Quindi praticamente Andate a spiegare Come si salta E basta No si prendono Anche degli oggetti Strambi Ah vabbè Allora Praticamente È un gioco Cioè per adesso Sembra stealth Da come l'ha proposto Il gioco Ci sono i mostri Che te magnano E sono mezzi invisibili Ma che bei baffi che hai No ma quelli lì Erano Non è vero Gatto Quelli erano Ologrammi per il tutorial Ah dici che proprio Poi ci sono i mostri Mostri Certo Non hai visto il trailer C'è anche a gara Eh vabbè Magari diventavano invisibili Cosa ne so io Di come funzionano Lo scopriremo Nella vita Allora Dobbiamo Compiere delle task Ok Sì E uno di noi È un traditore Yes Ah Quindi c'è uno di voi E gli dà delle task Specifiche Segretti È un po' Among Us Però È nel Su Alien Esatto Bello Oddio No 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 Non voglio Non ha nessuna parte Oh no Allora in teoria Non abbiamo Abbiamo l'inventario Se premi I E se premi Tab C'è una delle mappe Che è praticamente Un pezzo di carne E per mettiamo un gas Lacerato male Ma che è Ma che cazzo Il carne hai visto Scusami Hanno fatto gli straccetti Cambia ma c'è liare Ma c'è liare Allora Sul muro C'è scritto They are blind E anche lì Non conto pari Perché non l'ha letto Chi è blind L'hai letto Il cartello Per la sua regalata Oh sarete bravi voi A parlare Va bene Sarete bravi voi Sono figati Sei tu il fangolino Beh sono umido Sono fango Dove siete andati Che ho già perso Ehi che cazzo Aspetta Sei scemo Ma che cazzo Ho paura Chi è l'uomo E chi è la donna Io sono la donna Io sono buffo man Sono medico Anche voi avete 7 fps ogni tanto Ogni tanto Qualche schattino Lo tira Però non è Io raccolto delle bottiglie Così me le bevo Dopo nel privato Aspetta Dove siete tutti Non ci si fidano Mi sembra veramente Che cazzo ho fatto Che scatto C'è l'uomo enorme Log in to system Che sto creando Ma c'è un alieno gigante Ma c'è un alieno gigante Oh bestialata Sì ma le armi Le cose dove sono Scusa Mi sto logando nel sistema Ma non ci serve Ma ragazzi è arrivato Un amico Un po' particolare Ma già mi hanno picchiato A me Eh sì ma Le armi che c'erano Tutte ore dove sono finite Non ti servono Comunque loro Dicono Dice che sono blind Capito? Eh mai no Io sto Prendo una porta Da un terminale Forse No l'ho chiusa L'ho chiusa Per un tot di secolo Scusa Sto gioco è fatto Di urlo Aspetta Ok Cioè in realtà È fatto molto bene Ma non ti dà nessun Indizio su che cazzo Sta succedendo Io non so Se sono il traditore o meno È quello il punto Allora Aspettate Eh neanch'io Stavo cercando quello Nel mio inventario Allora facciamo così La prima è vergine Così capiamo un po' Come funziona Che tasca avete? Main goal Fase 1 Find the data disk Anche io Ah e allora sono io il traditore Non volevo dirvelo Perché ho una secret quest Che c'è scritto Distruggi 15 No c'è anche io la secret quest Ah allora 60 One year cannot return by shuttle One year Che è One year? One year sarà È lì no One year Che è One year? One year Sì Perché ho visto One year Pensavo fosse Non sapevo Allora Una cosa Un secondo Io sto perdendo vita Perché Ah Fessa di male Qui sono io il traditore E vedi che ce ne avevano tutti Il goal segreto È morto Lino E io ho vinto Perché È solo io Eh? Eh ma me diceva Lui doveva morire L'obiettivo era One year Lui è morto Quindi sì Ma quindi io che cosa Ero cattivo? No Lino no Ah ok Che cosa avevi scritto In alto sinistra? In pratica una cosa Basta un colpo dal mostro E tu Non è che ti toglie vita Sono ad una botta No è continuo È tipo a dot Quindi tu ti diventerai a curare No 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 Sei infetto Se ti infetta sì C'è proprio anche La meccanica dell'infezione Ma che animale di pelle è Scusatemi Quindi ero il traditore Però ho vinto adesso Io distruggi 15 uova E le uova faranno uscire gli alieni Quindi chi è il traditore? No scusami Distruggi le uova Non apri Ciao matto Eh distruggi E che io con un calcio L'ho distrutta Ed è uscito l'alieno Eh perché hai fatto questa cosa? È sbagliato Perché me l'ho detto Distruggi 15 uova Scusa Ma posso essere un dei comata? E non lo so Siamo due traditori? Voi sembra strano E com'è? Ah non c'è un traditore Aspetta Dovete semplicemente Cooperare Per portare la nave a terra E completare i propri obiettivi Nel frattempo No ma il gioco No non è vero Ehi mostro Mostro lui Uno deve impedire Agli altri di fare le cose Infatti Ma nel mio caso Fai morire Molino Anche io Tipo Carter Che sarebbe Karim Io ce l'ho Che non deve tornare Con lo shot Quindi lo devo ammazzare Ah vedi Anche tu ce l'avevi quindi Eh Ma noi siamo stronti con tutti Siamo Scusa Il tutorial di sto cazzo Non ha detto niente Delle cose che bisogna fare Cioè tipo Per terra ci sono degli oggetti Chiamati Loot raro Che sono delle fiasche Che Se io Vado nell'inventario E lo guardo E mi dice Ha della Cioè Ha della valuta E Due di esperienza Però In caso di pericolo Lo puoi usare Perché stanno il mostro Eh ma due esperienza De che Dove Questo gioco è basato Su un board game E dicono Appunto Non è assolutamente basato Sulla cooperazione Ma è un gioco per bastardi Perché a quanto pare Ci dobbiamo picchiare Vabbò Ok va bene Io ho una chiave Ma non so Dove in fi Aaaaa Sono in una situazione Disdicevolissima Se abbiamo altro Da capire Capiamola Prima di Eh ma è per quello Che volevo capire Chi era Chi era Eh piano piano Io ho trovato Due palle Come board game Che si chiama Nemesis Lockdown Oddio Non sapevate Voi lo sapevate Che era tratto Da un board game Sì perché L'ho letto Su Steam Ok Fico Non lo sapevo Ho visto un mesetto Fa che lo cerchiamo In associazione L'Uni Ah Come l'audio del gioco Adesso è più alto È troppo alto Quindi vi dovete uccidere Penso Tipo Che vinci ovviamente Chi lo fa prima Forse Vediamo Piano piano Cerchiamo di capire Intanto Antonello Ha trovato un'arma incredibile Sì ho lanciato a me Io Io ho trovato Ste cose Che mi danno XP Ma non ho capito Dove le devo mettere Dove le devo portare Io ho trovato una chiave elettronica Ma non so che farmene Strano Eh sì È un gioco Molto molto strano Vabbè cerchiamo di capire Il tutorial non ha fatto un cazzo Non ha spiegato No mi ha insegnato i tasti Male Madonna veramente Io ho trovato veramente Due coglioni giganti qua Allora setting Resolution a posto Mettiamo Quando giusto per sopravvivere Alla fine Non si guardi in faccia A nessuno Certo Ok 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 Però come l'aveva messo giù Il gioco Era Ocio che c'è C'è lo strunz È vero E invece siamo tutti strunz Siamo tutti strunz Cioè si coopera Per sopravvivere Però alla fine È morto Carter Sì Vabbè Un po' come Come si chiama Quel gioco Dove Ammon Gas Però Ammon Gas Devi uccidere proprio Gli altri No non dico Problema Ammon Gas C'è più come quel tipo Come si chiamava Oddio Quello con gli alieni Sull'isola Dove devi recuperare Il fatto apposta Sosso Esatto Solo che qua Sì Hai ragione No hai ragione Hai ragione Alla sossa È verissimo Eh si coopera Ma in realtà Alla fine fine Ci spareremo tutti quanti Bello Ok vabbè Noi vediamo un po' Ma scusa Ma li hanno incornizzati Questi cosi Ma che schifo Ma c'è la cacca Che scende qua No È sbaglio È sbagliato Solo che ho ottimizzato Con il culo Deve essere sì Mi sta andando un po' Di problemi Adesso sei ripreso da me Legendary Drop È questo qui che avevi raccolto tu Sì E ce l'hai Nell'inventario Lo puoi anche se ce l'hai Con la rotella E c'è scritto Che ti dà esperienza Ma non ho capito Se devi metterlo Da qualche parte Forse ti dà esperienza Una volta che scappi Avendolo in tasca Sai Ah magari Ti fa Anche perché Mi ha sblocato Io cosa dovrei fare Mo Devi completare Devi completare i fasi Per andartene Hai un timer adesso Hai visto? L'ho sempre avuto Ah io no Sì 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 Il timer c'era dall'inizio Era una mezz'ora Una domanda Il datatisc Ce l'abbiamo tutti No dobbiamo trovarlo Eh no 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 Io c'ho questo Guardate io c'ho questo Però Ho dasse Ho capito Avevi anche tu Recuperare il datatisc Ma non ce ne sono tutti Traditori L'abbiamo fino a spiegare Lì no L'abbiamo veramente Per Nessuno di noi è traditore Siamo solo dei pezzi di merda Tutti e tre Ce l'abbiamo tutti e tre Ugo Altre qua La missione sì Perché la missione è Sia fuggire tutti insieme Sia mettere i bastoni Tra le ruote Agli altri Cazzo è sta roba Un albero Ma poi la storia è Abnorme Non hai vista la mappa Eh sì C'ho pod access card E il pod dov'è? Dovete bicchiare Contemporaneamente cooperare Sarà molto Sarà molto Partico Ma che altro Cioè ti dice Faccio uccidere che rifacciamo Intanto Fase 1 Trova il datatisc E poi c'è sta mappa enorme Cioè che devo fa? Ma questo Questo coso qua Secondo te è l'alien Sì probabile È proprio l'alien Che trova Sembra Ma io c'ho della faccia Schifata Perché sono infetto Si vede Mi sa di sì Io vorrei morire però Se c'hai Sotto la mappa Ci dovrebbero essere Indicato di che cosa hai No sono inifugo Cosa vuol dire Indicato di cosa hai La leggenda Io ero Quando mi hanno colpito Che mi stavo Stavo diventando infetto Con tab sotto Mi spiegava che cosa Mi stava succedendo Ah eccolo qua Slime affecting your noise And movement Need to wash it Ah ok sto facendo Che vabbè Eh vabbè ma potevo morire Scusami Se vuole giocare No Midnight Ah quale? Midnight Quello lì Dove ci dovevamo nascondere Dove devi risolvere I problemi della nave E tenerla in piedi Ti può controllare Che i motori funzionano E le coordinate Ok 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 Grazie Adesso Però è mortolino Io ho vinto Ho vinto 81 punti Mi ha dato Ah pensavo Forse il codice Infatti mi dà Delle carte Vedi Ah Che ci fai Mi ha dato Onir Le carte ti dà O oggetti Per i personaggi O nuove missioni Ah Midnight Cos Midnight Cos Ma scusa Devo rifare la partita Ma che cazzata Guarda No ma che palle Eh Ah creo Magari un giorno Ricapiterà anche Anche se ne dubbino Quando hai aperto Una mappa Ti dicevo Le possibili posizioni Dei data disc Assegnati con dei cerchi blu Oh grazie fratella Mi sono Come scusa Puoi ripetere Quando hai aperto Una mappa Ti indicava Le possibili posizioni Dei data disc Assegnati con dei cerchi blu Ah ecco che cos'era Quella roba Ok Ok Sappiamo cosa fare Eh vabbè dai Stiamo facendo le prove Adesso Allora unitemi Adesso ve lo dico Sei Verona Pistola Edimburgo Karim Musa Ah Quante parole Che sa Ok Se non avessi me Come faresti con la k Eh sarebbe Con la m poi La combat di Mortal Kombat Ci prendiamo Il meccanico Dai mi sembra simpatico Oh I'm happy Vai Cerchiamo di collaborare e basta Ok Sentilo l'infame Ma è che non so neanche Missione Io ci avevo Cerchiamo di collaborare e basta Eh quasi quasi Niente Sono andati Che è successo Non so Non so se me la sento Allora Dobbiamo fare tutta la live con i suoni Si ha cambiato il mix Non volevo dire Allora Allora Vabbè il disco Non dico chi è che dovrebbe morire È a posto Perfetto Quindi adesso sappiamo Che lì non ci vuole ammazzare La mia quest È secret È particolare C'è scritto Destinazione Marte Quindi io devo cambiare la destinazione Adesso lo sappiamo Ti devo impedire di andare su Marte È un album di Tommaso Paradiso Destinazione Marte No e devo Tipo cambiare Direzione della nave Ah ok guardiamo la mappa Ah certo avete letto Una missione Carina come cosa Non me l'aspettavo Allora Vediamo la mappa Ehm Chill room Shower Sì 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 Infatti Allora Andiamo assieme Andiamo assieme Perché sembrano essere tutti lì vicino Andiamo Sì guarda La segna anche nella minimappa Però state tranquilli Che c'è il mostro No eh Oh oh Elliot Eh Carter Elliot è l'autocarter Chi sono io? Eh non lo so Tu sei Elliot Io sono Elliot Ok Ma quindi mi devi ammazzare a me Io mi fido di qua ciao No no Non diremo ammazzare Allora andiamo tutti insieme Fai felte? Ma io non mi fido Né di te Ma soprattutto di Lino Non ne sono Ragazzi c'è uno scarrapuno Eh non lo toccare Che quello ti impiastriccia la telecamera No no Per l'amor di Dio Allora siamo arrivati Linus C'è il mostro Giga No 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 Sono con il demo Gorgone Vaccaboglia Io c'ho un remote door control No fail Come fail? C'ha una carta questo signore Come cazzi? Non si prende Devi tenere premuto Aspetta non ci ha visto il mostro Non è vero Sì Hai visto già tu? No io l'ho toccato Ma non è uscito nulla Ah ok Va bene ok Perfetto Io ho un punto di domanda Qui sulla mappa Che serve? Chiediglielo Non c'è niente Non c'è Aspetta aspetta Sto indagando Bestia ladra Karim dove sei? Sono dietro il bancone Sono caduto in una bottola De enorme No no Come? Ma io ti vedi in piedi Ma che culo che hai trovato un Ho trovato un fucile gigante Quelle armi ci sono Sì Però era a caso per terra Mi trovo il leggendario loot L'ho buttato a quanto pare Non ci serve Non so dove sia finito Chi sparo? Che faccio? No no Ti ho fatto la carambata Io entro qui dentro Io entro qui dentro Non vuoi sapere niente Karim buttati qui dentro Che biodiversità è questo Eh ma dobbiamo cercare Dobbiamo cercare Data disk La card Ma sono il campione Adesso vi uccido Merde Ma perché? The disk to the mini camera No Non lo fare Non iniziamo a litigare Facciamo le belle persone Mi culo Mi culo Ma che bel biuco Ho acceso la doccia Karim ci sei ancora? O mi hai lasciato da solo? E dove sei tu? Io non ho avuto più visto Ok mi segna che devo andare qua Giusto? Eeeh Aia M'ha mozzicato E' finito Ok Ci sono da solo Ok Sono qua Sono qua No sei ancora sotto nella botola Eh voglio uscire Sì Esci Grazie Per la salva regalata Foschi per i 32 mesi Jess per gli 8 mesi Nooo Sono smelmoso Mostro Pino E sto andando all'obiettivo blu Non è giusto? Ah l'unico che c'è Ok Credo che c'è Sì Vabbè andiamo E sto perdendo sangue ragazzi Sono praticamente finito Sono smelmato Insanguinato Ma perché? La mia vita è così Perché mi ha morso Perché Fatti i cazzi tuoi Poi maleducato Che domande fai? Ma mica io non stavo dicendo a te Che vuoi Grazie sì sì Per i 35 mesi Mamma mia Il mostro gigante No no Cazzo Ok Adesso c'è nuovi obiettivi Repair the heating system Abbiamo C'è qualcuno che lo può andare a sistemare Cortesemente Grazie Eh anche io dovrei fare quello Grazie Va capito Sono secondarie però Perché dobbiamo mantenere in piedi la nave E sarebbe il caso di sopravvivere Ma è super difficile Ma è super difficile Cioè mi devo abituare Ma sei scemo Che cazzo mi Eeeh Il mostro L'ho ammazzato Bravo Dov'è che è l'obiettivo? Ma qui sì È qua Ah di là Facciamo prima di qua Facciamo Sto cagando sotto Chat ve lo dico Mi fa un po' paura sto ciò C'è più che altro Perché non voglio morire Sono il biribiri eh Lo sento il biribiri Vediamo se c'è La puttana Eeeh Scostumato Ah l'ho ucciso L'ho ucciso Ammazzate Ok Un altro l'ho ucciso io Non c'è niente Fucilate però Ok Eh sì Non lo vedo da nessuna parte Da mezz'ora che sto cercando È tutto piccolissimo Non vedo niente Io sento dei suoni terrificanti Ma non esiste niente Perdo vita eh lo so Ma io adesso muoio È che voglio portare il vaso No e sto anche sanguinando Ah Io sono medico Però chissà come funziona tutto Qua? È qui È che Dov'è sta sta roba? Che fai? Sono morto No gatto Eh sì No gatto no Oh madonna No come sei morto Il mio main goal era renderti vivo Ah sì Mannaggia Lukaz Eh Il mio era uccidersi Ma ma com'è possibile No Eh allora I però Hai trovato Kerim la mia testa? Allora a me attualmente si è No 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 Ho trovato la capsula Ma non è Ho trovato la capsula Va andiamo Ma è quella lì Sei sicuro? Eh c'è scritto capsule Di caffè Che cazzo è L'oggetto che ho lanciato io Lo posso mettere Però come si riempirà No quella è Ma tu stai seguendo Me o Lino Io adesso Tu E questa che ho in mano Non è quella che mi serve? Non è quella che avevo io Io avevo una tesserina proprio Missione fallita? Yes La mia sì Non lo so Vabbè proviamo Ci porta la capsula Lo vedo che c'è un obiettivo Da un'altra parte Sarà corretto Devi tornare Allora è giusto Sì Devi tornare indietro Ti seguo Attenzione che sento dei suoni Però rompenti Però attenzione ragazzi Perché secondo me Se non riparate Le malfunzionamenti Entri sei minuti Perdete Sì moriamo Sì sì Il problema è capire Come farle sta roba Cioè bisogna effettivamente Per tenere un po' di tempo Ah no hai ragione Dovevo uccidere Karima io Non Lino Ah Karima c'è dietro un signore Beh vabbè Non avevo neanche iniziato Avrei fatto il double check Guarda guarda come sta dietro Profondo E' interessante Bisogna capire meglio Perché è un po' confusionario Molto Non si capisce Perché confusionario E' veramente Cioè ti butta in mezzo A una mischia gigantesca Di roba No dai No stai bledando Stai bledando Come me Ce la faccio Ce la faccio Come un po' Destra Destra Qua qua no È dritto qui Ecco Ok Ok Perché c'è la mostarda Dove cazzo Perché c'è la mostarda Della cosa No mi ha dato Non c'è più Escape by the pod Hibernate o escape by the shuttle Eh ma non so come il pod Ah hai tre possibilità Apri la mappa E se ti dice qualcosa E non posso mi seguono Escape pod Dall'altra parte della mappa Karim C'è la A e la B Esatto E la S C'è anche l'ibernazione Se vuoi Lo shuttle qua Fico che ti vuoi anche ibernare Ce l'ho fatta Ce l'ho facita Ma male No però Lo shuttle l'hai salvato tutti quindi Non lo so Mangano Ilaria Mangano da bene Ma mi ha dato al menù principale Senza dirmi un cazzo Va bene Vinta? Tu si hai vinto Credo Bravo Palla al centro Molto particolare No lo so che non dovevo rivelare il mio obiettivo Ma ero morto Quindi Sti cazzi Se l'obiettivo di Lino era tenermi in vita Il mio Uccidere Karim Cioè non è un problema Sì ma poi dobbiamo un secondo capire Cioè stiamo Ancora ad inizi proprio Allora Pito Le missioni secondarie sicuramente sono necessarie da fare Per vivere Quello di sistemare la roba Ma perché l'hai fatto in tempo Se non ce la facevi magari morevi Esatto Ma in realtà se corri ce la fai Cioè se corri proprio Anche se finisci la stamina Ce la fai? Allora Da quel che ho visto Lecca Facciamo fin da che lo dobbiamo fare Culo No 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 aspetta Il codice Il codice Eh sono da tutta l'altra parte Nevica hai detto? Lecca ho detto Lecca Culo È una domanda a costo Adesso lo vedrà Quattro Sì Imola Mortadella Adivigonza Vai Le missioni secondarie Le stanzi si nanneggino No Ok Adivigonza Quindi Io cambio personaggio Basta Non voglio più essere Ma tanto non serve a niente i personaggi Se inizi con zero Cioè cosa serve? Voglio essere pelato Va bene Ah ma io c'ho il detector O se no il pipe Col meccanico Ah Aspetta 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 Ma io voglio partire allora con il pipe Eh almeno tiro delle legnate Fanculo Eh sì Io inizio adesso inizio con il medikit Eh vedi On the 300 Ok Tutti i amici sono ciechi Daniele mi ha dato il codice di lo stallone Lo giocheremo prossimamente Cazzo È bene È uscito oggi È uscito oggi Sì Però no Capito se in accesso anticipato o meno Ma questo non è un pipe È proprio un bastone È quello dello swiffer Un mazzarill Salendo troppo Ma si scemo? No Che c'è? Prova E come ti uccido? Bella domanda A prendere le uova Tipo Se io volessi Se il mio obiettivo fosse ammazzarti Cioè come faccio? Scusa non ci sta Che cazzo Forse veramente ti devi far morire in altre maniere Allora il data disk Vediamo se qua Occio Cammina piano Prova a premere tab Ma con me già sto perdendo l'HP Ma sei uno stronzo Ho fatto il caffè io eh Buono Anche per noi Ma perché? Io ho trovato Il legendary loot Ok Dove è il loot? C'è l'ospedale Surgery Dai Mi sa che non era qui Non era Che è cyberpunk Ma che cazzo Ma io sono veramente orfano Da un gioco con l'ambiente cyberpunk Io E ce ne sono proprio pochi Eh sì C'è la cyberpunk 2077 Ma purtroppo Sì A me piacerebbe esplorarlo Ma non ne abbiamo parlato io e tecnic Ma Starfield? Madonna Eh Che dici? Ma sai che mi ha solleticato parecchio? Eh Sì Ma veramente tanto Sì Eh lo shooting È quello di cui stavamo parlando tutti Ma proprio Cioè è proprio una merda Terribile Ho trovato Ho trovato un'arma Hai trovato la chiave? Sì 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 Ma come è possibile che non trova mai un cazzo? Eh perché l'ha trovata Lo shooting è veramente terrificante Lo shooting è terribile Però hanno detto che Hanno fatto mille pianeti Fermi qua Fermi qua che arriva Bono c'è la pipe Hanno fatto mille pianeti Però la maggior parte della roba è stata fatta Che è morto? Stay in Ma hai detto che sono ciechi Ero fermo Ma mi ha sciottato Io dovevo salvare lui Porca puttana è morto Sto deficiente di merda Io non ho Sai che non ho una missione secondaria io? È stato salvare lui? È stato salvare lui? È probabile Può ammazzare lui Ero fermo E mi ha sciottato Dai c'è l'altra volta No comunque Sono mille pianeti Err caputane Fermo lì Io vado dall'altra parte Non ti muovere Non ti muovere Ma l'ho fatto lontano È casino Ero fermo Sembra che c'è il mandellino però il mostro Ma è andato via Vieni paura È andato via Sì Dove dobbiamo andare Madonna santa Sono mille pianeti Ma la maggior parte della roba è fatta a mano Cioè non è procedurale la nome in sky Per intenderci No però hanno detto che sono procedurali No 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 Allora Li hanno creati proceduralmente Ma ci hanno messo a mano No quella cosa lì per forza Perché le città Le missioni Quelle per forza a mano le devi fare Sì sì No ma i procedurali Nel senso che avranno fatto il pianeta Però tutto il resto L'hanno fatto loro a mano Eh ma il problema è quello Cioè se alla fine il pianeta diventa Un punto di interesse Che loro fanno fatto a mano No 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 Tutto il resto del pianeta Cosa serve? Allora ti svegno un segreto Era così anche Skyrim Sì però Hanno fatto il procedurale Skyrim Skyrim è procedurale sì Tutto? Non tutto Molti dungeon sono procedurali E molte parti della mappa lo sono Poi ci hanno messo a mano No i dungeon non possono essere procedurali Ci sono dungeon Ci sono dungeon Creati automaticamente dal computer Poi ci hanno rimesso a mano Comunque che scifica di me Però è un conto è un dungeon Un conto è un pianeta Gatto Certo Cioè lì come ci rimetti mano Ad un intero pianeta a mille E intanto Intanto ci sta mettendo una vita a farlo Sembra un gioco ma sto don Ti poccio Si sto fermo Si sto fermo No sta solo vomitando Ma sputa i germi che schifo Eh per trovarci l'infame Un kiki Ah ecco come mi ha gamato allora Ma hai visto? Ma hai visto? Ma hai visto? Ma è impossibile Corro Come è successo questa cosa? Io sono sincero Lo shooting mi ha un po' Ammusciato Vabbè ma quello Mi ti abituo Sì esatto Anche perché il gioco è talmente Mastotontico Che porca miseria Stavo piangendo Però porca miseria Che questi qua mi fanno vedere Lo shooting tutto futuristico E sparano Con Le tic tac Sparano No sparano Da hip fire Senza mirino Ma vaffanculo Ma quella è proprio una cosa Che mi ha dato sui nervi A parte le mollette Che sparavano Grazie mille Luca Per i 400 decibizzi Mi è andato un po' Ma spizio anche Non c'era arrivato Quella specie di P90 Ma sai che non è qua? No no Dove sono io? Cazzo Sono io È una carina l'arma Ma scusa Tu non sei morto? Ma sai che me lo sei andato In un'altra parte? Me lo sei andato qui avanti Qui No non credo Nel blu Sincero E devi raccattare sto coso? E mi dice Attack the disc to the mini capsule Ah ma è morto l'altro E non ce l'ho Ma ce l'avevo io Ce l'avevo io No Il disc Ah no ecco qua La stessa di prima Ok Ma è identica a prima la missione Proprio uguale Bello Comunque non credo sia cieco Erano fermi Come li assente Sono tutti ex proprie di quake No è che lui probabilmente Ha sputato gli alienetti Che hanno fatto rumore E ci hanno scamato Dovrebbe essere quella Esatto Esatto Perché mi segna blu qua? Mi segna blu qui Ma non è qui che lo devo portare Niente Che cazzo? Ma sono mortissimi Ma mi segnava lì Era sbagliata la missione? Non lo so Però vedevo anche io Che era lì scritto Ma che cosa Che cosa strana Ciao cabri Boh Eh si rifà Riusciremo mai Eh prima abbiamo vinto Ai Vabbè non importa Ma poi che senso ha Le carte randomiche Alla fine Che io ho usato il medico E mi ha sbloccato un'arma Per il meccanico Forse perché sei morto subito Non lo so Ma anche prima non era data A me due ogni volta Delusione Delusione Allora due Vai HH HH 35 Di Giovanni T di terreno Cos'è 35 di Giovanni? Il numero 35 Eh E cosa è Giovanni? Che cazzo è? Eh che cazzo lo so È 35 di Giovanni Vabbè Quindi non c'è la D No Ok Grazie per averci confuso Vabbè poi 35 T Di terreno Sì è tra maona Vai Tì veramente di scemo Non ce l'ha di No no Eh sai Mi ha dei dubbi Mi fa venire Allora Basta Voglio Potete scegliere voi il main goal Ostia Da dove? Ma il gioco non ci ha detto un cazzo però Il gioco era prima di doppia per andare avanti Open Briefing Da qua Open Briefing Main team goal Sopravvivere Come lo scelgo? No vabbè lasciamo random secondo me Che poi qua c'è scritto Research egg Prima era data disk Adesso è research egg Ecco qua Lo stai cambiando eh Lo vedo Sì ma sono due Non è che posso scegliere chissà che cosa eh Eh vabbè Gatto Ah no ho capito Era per dire Scusate Va bene Vado No comunque a parte lo shooting che È alla Bethesda È la Fallout purtroppo Sì Eh tutto il resto mamma mia qua Cioè tu puoi fare È interessante Tutto Ma non è Allora non è che si è visto così tanto quello che puoi fare La cosa figa era l'astronave L'astronave Però per il resto Ti puoi modare anche le armi Ti puoi fare la base Cioè Poi La cosa che mi è piaciuta di più è che È GDR GDR Quello che doveva essere Cyberpunk Cyberpunk Eh beh sì Beh te esatto Ti ricordo Ti ricordo che anche quell'immondizia della parte GTR di Fallout 4 era GDR GDR faceva schifo al cazzo Sì però qua Sembrava figo Da come l'hanno messa giù Che tu impari determinate cose Ti cambia il modo di parlare con le persone No ma infatti Io spero che sia veramente tipo Fallout 3 In space Così Eh esatto Vediamo la realizzazione Eh speriamo Perché comunque Oh ho trovato un escape pod Bravo Però dobbiamo collezionare le nuove Certi fatti Ok Ok Cioè a me è piaciuto quello Perché profondamente È quello che mi mancava in Cyberpunk E quello che Cyberpunk non era assolutamente Yes E che peccato porca miseria Mi ci sarei sfondato per ore Ok Tanto a quando ho capito non ci serve Seguiamo la signorina È sempre meglio Però non c'è Dove possono essere qua le uova Non è come prima No sono un po' a caso le uova Sai Eh no non è come prima che ci insegnava Restiamo insieme o ci dividiamo È uguale Però come si anali Come si collezionano gli artefatti delle uova Ah non lo so Con le mani mi sa Con le mani Con le mani Con le mani Ah madonna Le cipolle Io ero zucchero Con le mani così All'improvviso Banda di drogati Lo sei scemo Che è Carter qua Alza gli occhi Sono io Eh grazie Ho trovato un computer Lo ciuccio Che ci faccio Ah vedi che posso Posso aprire le porte Che carattere non avesse Sempre la stessa Sì sì Palesemente Però poi Io ho sbloccato Nelle carte Pensate Un nuovo punto di inizio Eh vedi Perché poi dopo Ma poi Gatto ho trovato Ah no è lanciafiamme Ah che cazzo Pensavo fosse una gatling Invece no È un lanciafiamme Che funziona anche figo Perché spruzza prima Il combustibile Poi gli dà fuoco Mi piace molto Quella cosa lì Eh però l'effetto Era un po' una merda Non si capiva quasi niente Eh non so Però era realistico Che dobbiamo fare Vorrei riuscire a trovare un'arma Voglio vedere Comunque come funziona Oddio C'è un topo Allienno La merda Sparo Dai Stava morendo No no Guarda che ti ha colpito lui Che mi dico Eh ma sciottato però È brutta vita Ho visto Tanto è sparito il tuo cadavere Lui è scappato Non l'ho fatto in tempo Noi ci godiamo la nostra Di vita Sì ma è apparso A cazzo completamente Comunque per me Nomen Sky Rischia veramente Di Di Nomen Sky Scusami Starlink No Star Citizen No Star Citizen È un'altra roba Starfield Cosa fai le foto? Lino Ricoglilo Premi E Premi E Non lo toglie Che hai premuto E Lo sto tenendo Ah ce l'ho fatto Mezz'ora Difficoltà eh Che sanzone Eh ma ho aperto Un uovo E adesso Come lo Cioè vedi L'ho aperto Un uovo No Forse dentro ogni tanto Ci trovi una sorpresina Ma dici che a caso Non ne ho idea Non lo so Minchia Non lo so Ecco ci fa Grazie sergente John Per 25 minuti Buonasera Buon all'anno Poi mi dovranno spiegare Perché alcune porte Devi premere Altre si aprono da sole Non chissà L'han detto Nel tutorial Che ti serve la chiave Per alcune Giusto perché No 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 Quelle che clicchi Sono quelle verdi Che clicchi E quelle che si aprono In automatico Porca puttana Ciò di pezza Lino sei inseguito eh Eh mi sono inseguito Alla finanza No Andiamo via Andiamo via Comunque Starfield Per me diventa Una bella killer app Per Xbox Speriamo No no Ogni tanto me lo fa Nerd Ah no Malfunction Ok Non lo so Per quale motivo Questo gioco di pezzi Peccato perché Hanno solo quello Però Eh già qualcosa Se hanno anche solo quello Fa come Oblivion Per l'Xbox 360 Sono morti Ah beh Eh no Sono rimasti soli Vamore di No ragazzi Perché voi Mille pianeti Se la maggior parte Sono vuoti Ma che cazzo Ne sai che sono vuoti Scusami No vabbè L'ipotesi si può stare Perché ovunque siamo stati Abituti Che quantità È maggiore Di qualità In questo caso Sono d'accordo In generale Infatti No Man's Sky Dal day one Ho sempre detto Che se non fosse stato Procedurale Sarebbe stato molto meglio Allora ragazzi Dobbbero trovare Delle uova Non lo sappiamo Se i pianeti Mille sono tanti Sono tanti Il problema è mille Che mi dà un po' fastidio Sono d'accordo Infatti è lo stesso dubbio Che ho avuto anche io Però loro hanno voluto Specificare Che ci hanno messo mano Sì sì Ma era ovvio Non poteva essere Nome Sky 2 Esattamente Qui si cambia Qui si cambia la Destinazione Ok Cerca il nido sulla mappa Bravissimo Cerchiamo il nido È questo? No Hanno detto che sono Procedurali Esattamente Però era procedurale Anche Skyrim E se ci hanno Mettuto le mani dentro Su ogni singolo pianeta Però gatto Non è la stessa cosa Non lo sappiamo Un dungeon procedurale Non è un pianeta Sono d'accordo Però Non sappiamo nulla Non lo so Ma infatti finché non lo vedo Ma io spero Che facciano vedere Qualcosa prima Però conoscendoli Mi sembra anche strano Che Dai Che abbiano fatto Mille pianeti vuoti No Ma non saranno vuoti Penso Però Però inizia E te li ricordi Tu l'hai giocato Mass Effect Che bello Te li ricordi I pianeti di Mass Effect Che gli esploraroni Con il rover Il 2 Dici Erano la superficie Della luna Tutti uguali Ma donna Lì quanti Mi butto Ripeto Non sono Non sono loro Sono Sono E soprattutto È un gioco Che da Una vita Che lo portano Eccolo L'artifatto Ce l'aveva L'ha lasciato lì L'artifatto Eccolo Ma tanto Tutti i giocatori Hanno finito di giocare Grazie Esatto E non c'era Tutti Ah è vero Nel primo Potevi andare in giro Quella macchina di pelle È vero Sono mille pianeti Non dungeon Sì però Ragazzi Voi state giudicando Una roba Che non avete ancora Io capisco Infatti Bisognerebbe Solo essere Neutrali Per ora Esatto Dire saranno voti È sbagliato E che Mi è dispiaciuto Che anche con la presentazione Siamo rimasti Neutrali Perché Hanno detto Roba Che tu dici Ok Sembra figo Però Esatto Ci li rimetti Le mano Spero che bastasse questa Perché devo aspettare ancora Infatti Ragazzi Non mi schia Una bella idea Ma fa cagare Perché dopo un po' Ti rompi il cazzo Adesso meno Perché hanno Iniziato a rendere I pianeti più diversi Ma al day one Dopo un po' C'era lo stesso pattern Me lo ricordo Ci ho fatto 40 ore Tra l'altro Gatto Hai sentito che Non ci sarà Il volo Libero Nel senso Quando tu esci dal pianeta C'è un caricamento Poi vai nello spazio Ok No Perché Giustamente Devono farti Ma a me va bene Non è un problema Quella cosa No sarebbe stato Finissimo Sarebbe stato incredibile Ma un gioco Come quello Mi sa che era Difficilino farlo Sì E poi dello shooting In realtà Quello che mi ha dato Più fastidio Però devo C'è un gioco Però attenzione Tu dici giustamente Come? C'è un gioco I combattimenti Nei giochi De merda Eh No Quello che mi ha dato Un po' Mi ha fatto Scorce nel naso Però devo vedere Se effettivamente Così Che quando spari Al cristiano Il cristiano Va dritto Verso l'identità Non ha impatto Il colpo Quella è la cosa Che mi ha dato Un po' Più fastidio Più Che lo shooting Di merced No 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 Ma è verissimo È verissimo Ok Cocco dice Anziché mille Forse ne è meglio Cento ma pieni di roba Però uno Non hai ne ancora visto Questi mille Quanto sono pieni di roba Due Magari Il gioco ti dice Già a prescindere Vada che lì vai Solo per farmare E tu Prendi quel pianeta lì E non ci vai Banalmente Sicuramente Non saranno Mille pianeti Incredi No ma tra l'altro Non sono tutti mille pianeti Sono mille Punti di interesse Nello spazio Quindi io penso Che Se non mi ricordo male Lui ha detto Mille No mi sa che ha detto Mille pianeti Perché io Quando lui le ha detta Questa frase Io ho pensato Perché lui ha detto Una cosa specifica Io ho pensato Alcuni sono punti di interesse Quindi tipo Un puter Una stazione spaziale Un'astronave abbandonata A me pareva Avessi detto Pianeti Infatti Ha detto Proprio pianeti Ah beh Ci sarà combusto Magari 100 sistemi E io l'ho visto Sicuro Vado a vedere Guarda Il mio BS Sta andando Un pochettino A giallo Se in caso Vedete che Spacco tutto Sapete perché No no Non sto Tranquillo Starfield Cazzo Come Ti ricordo Manco più il titolo Dicevo Spacefield Incredibile 10 pianeti In un sistema solare Ce ne saranno 100 di sistema solari Quindi sono mille Esatto E giallo Finisce E te ne restano Mille E lì ragazzi Finché non Non tocchiamo Cioè Dire a prescindere Saranno vuoti Mi sa distronzata Dire a prescindere Saranno incredibili Uguale Cioè Vediamo Sì Ha bisogno di aspettare Che buzzi Sono d'accordo Che buzzi Però minchia Partire già così prevenuti Mi sembra un po' Essere prevenuti Eh no Ma perché gatto Gli ultimi anni Sono stati una merda È vero Però è da per po' Che Bethesda Non ci butta fuori qualcosa Cioè Guarda che il grande ritorno Di Bethesda Dopo Fallout 4 Francesco E Fallout 76 Sono Fallout 76 No 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 Perché Sì gatto Cioè Fallout 76 Poi c'è anche Elder Scrolls Online Ma sti cazzi Quella roba lì Io non la considero Bellissima Elder Scrolls Online Sono dei giochi Dei game as a service Creati a parte Non è Io non parlo del tipo di gioco Io non parlo del tipo di gioco Io parlo del Del responso Di come l'hanno fatto Poi che Che fosse un gioco di carte O un gioco online No 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 Per me è proprio Sarà il prossimo gioco Dopo Fallout 4 Poi ci sta Hanno fatto Elder Scrolls Online Ma il team è lo stesso Oppure è cambiato Per gli altri Cioè Bethesda Cioè ha lavorato Magari per gli altri due E il 76 Non è che ha lavorato Un altro team Cioè probabilmente C'è lavorato un team Perché ci stanno ancora lavorando Quindi immagino Si è un team minore Di Bethesda Che lavora a quello Non lo so Effettivamente Elder Scrolls Online Comunque è un giocone Incredibile Veramente Hanno anche detto Che il gioco con più roba Fatto a mano Che abbiano mai fatto È vero Hanno detto anche questo Ma si vede che è mastodontico Poi bisogna vedere Quanto è vuoto Il problema è che Purtroppo È un gioco dove si dovrà farmare Proprio per ottenere materiali Quella Quella sembra l'unica nota negativa Eh infatti Mi sa che non sarà tanto Un gioco per me No neanche secondo me Per me sarà proprio Da cittare Ripeto È quello che doveva essere Cyberpunk Super GTR Ma proprio da nerd Di merda Puzzolenti bastardi E ci saremmo io e Karim Con le pezze Dopo 85 ore di fila Qui con gli occhiai A continuare a giocare A cercare pianeti di merda Vediamo Ma sicuramente ci saranno Un sacco di pianeti Per minare Oppure comunque Pianeti molto piccoli Dove magari Puoi entrare Però È esplorabile Una piccola porzione Perché che cazzo L'altra parte è solo mag Ma non qualcosa del genere Comunque non penso Che ti fanno esplorare Un pianeti intero La vedo veramente Molto difficile Ma credo proprio di sì Lì no Non so Cioè se non è così Diventa coso G di Come si chiama L'ultimo gioco di Star Wars Fallen Order Che andavi sui pianeti Ma i pianeti erano Dei livelli di Super Mario Maker Ma fare mille pianeti Però non è male Quel gioco lì Era figo Però era un po' triste Che i pianeti fossero Dei platform Non era open world Non era Era Io sinceramente Lo immagino così Cioè un pianeta Che effettivamente È esplorabile Per una porzione Con degli accampamenti Probabilmente da pulire Zone di mining Qualche missione Così Così esatto Secondo me La forza del gioco Sarà darti Più libertà possibile Più che Quantità Di robe Libertà Che è quello che tu vuoi In un GDR No? Non mi intanto E Guarda vorrei anche Cioè Almeno Io non riesco a concepire Mille pianeti Completamente esporabili Non Magari Però Un 40 miliardi Di milioni di miliardi Infatti che coglioni Eh ma il problema Però ci si può Si può Allora Ma magari Ditemi voi se non è così Perché ci sto giocando La poca a Nome Sky Cioè ci ho fatto una domenica Però comunque Nome Sky È un terreno Lungo Con un po' di lontani Qualche cosa sotto Un paio di animali Di pezza Sì 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 È esattamente Per quello che la gente Ha al culo stretto Lino È per quello che la gente Ha al culo stretto Perché ha paura Che la maggior parte Dei mille pianeti Sia così Cioè con una distesa Di terreno Che cambia colore Con creature diverse È buonanotte Perché così è fattibilissimo Non riesco ad immaginare Però magari È molto pointless Nome Sky È un po' inutile Sì Cioè cazzo Vorrei una cittadina Una cittadina Da circa Ve lo dico veloce Che è facilissimo Da dire No 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 Ti prego Non me lo dire Vai 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 8 GG O GQ O GQ Sono dentro Era giusto No mi ha detto Invalido È uno zero forse 8 GG Io sono dentro Sono un mago Era giusto Era giusto Allora Beh allora Pareri su questo gioco Per ora ragazzi Stiamo giocando Anche un malino Però non pensavo fosse stealth E palle Non pensavo fosse stealth Io pensavo Si sparassero ai nemici Invece no Il trailer era un po' Ho detto una bugia Come te lo presenta Sembra uno sparatutto incredibile Non è vero A me non Strangli Tu puoi volare liberamente nel pianeta Se non ti ricordo male Sì Il nome Sky Nel pianeta sì No No In Starling Star City Anche Star City Ma Star City Quando esce Voglio giocare Comunque Scusatemi Forsake Non so se vi aveva dato la chiave Possiamo switchare su quello Orché Forsake Te l'ho scritto prima Non hai detto Mi ha dato la chiave Kai Millers Io non so se ce l'ho Ma guarda Quanto pesa 14 giga No Non ce la farò fare mai Così velocemente Che pesa 14 giga Perché ce l'ho già Forsaken Ah Ce l'ho Dal 40 anni Questo gioco La madonna L'hai inventato tu Adesso vado a vedere No ce l'ho veramente Da tanto Come si chiama Forsaken E basta No Forsaken Senza n Forsake Ah Forsaken Effettivamente lì non ce l'ha Sì certo che ce l'ho Penso che te l'avevo anche Qualche volta Mi hai cagato proprio Ma me l'avevi consigliato tu Sì Per quello che l'ho chiesto Mi ricordo Mi ricordo Ah ma è un altro Fosmolaic Sì però tu Diverso Perché tu c'hai il piede di porco Rubi Purtroppo io di giochi scaricati Multi non c'ho niente Quindi se volete Niente niente Dimmi un titolo E vedo se ce l'ho Che cazzo ne so Dimmelo tu Che io posso scaricare Quello che voglio Non riesci a scaricarlo lì No? Che connessi hai Tu ne abbiamo mai parlato? Ho la fibra misto rame di pelle Vabbè lo metto a scaricare Vediamo Magari non so 14 giga Ma so di meno Ma non ce l'ha Karim Non è quello Ah non ce l'ha Karim Dicci tu Lo compro Non è un problema Ah sono 6 gigabyte Sono 6 gigabyte Aspettate Metto la connessione Un po' più piccola Però ci metterò Un pochettino di tempo Eh vabbè tanto Piuttosto che fare Un altro round di questo Guarda Ci metto un pochettino di pelle Perché se no È un peccato perché Comunque non è fatto male Non è L'astronave figa Però è un po' Boh No c'hai l'uso il trailer Quella me l'uso il trailer Download Lo metto Limita a banda A 1000 Io c'ho la misto rame Purtroppo E la misto rame È proprio una merda Non ci posso dire Eh lo so benissimo Mamma mia Io sono passato Dalla gigabit Alla misto rame Per mesi E volevo ammazzarmi Ho messo a 1000 Scarica 4 No Non ho la fibra Missa Cioè la fibra C'è l'ho Nel senso che mi arriva Al cabinet Eh 49 minuti rimasti Ma siamo pazzi Come è possibile Aumento un po' Più di 1000 Magari Ma scusa Vuoi che ce la Chiacchieriamo un attimo Nel mentre Che lo scarichi Senza giocare Che magari così Possiamo anche giocare Posso mettere a 3000 No no ma giocare Non mi dà problema Cioè in realtà Se attivo la banda Buonanotte Sì però ti lagga di più La live Se tu stai streammando Si vede più di merda Se invece ci sei solo tu Non è un problema Si vede meglio La bella Sblocco Vai Chiudete un pochettino Il curlo Potrei laggare ogni tot Dai che tanto Così Quando ci metto Chiudiamo il gioco Come faccio l'abbonarmi Bella domanda Manuel Non so mai come spiegarlo C'è il tasto Abbonati In basso sotto Esatto Sì Amazon Prime È gratis Ma non ricordo Come si fa Detto sincero Guardate che cambio il gioco Allora Sì ci metto Ci metto po' 10 minutini 11 minuti Dai Dai Sì È Christness Non Ogni volta Non so come rispondere Sincere Il cazzo Sto andando proprio rossa Noi ci stiamo bene però Eh lo so Il problema è l'amico La mia live di pelle Limitato a 5.000 Vedi No il cazzo Non bufferi La vedo difficile La vedo difficile Ma io ti sento bene Un secondino Certo Prego È ancora il gioco aperto Ok ci sono Ah sì Lo chiudiamo Ok Eh sì Perché così vai meglio L'ho chiuso L'ho chiuso L'ho chiuso L'ho chiuso anche io Eccoci qua A quando la 24 ore Non lo so ancora O l'1 o l'2 O l'1 o l'2 Hi Binge Che ci fai nella La 24 ore Non lo so Vuoi fare qualcosa Ah non c'è un gioco No 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 Chiedevo se c'è un gioco magari Se la fai il 2 Anche perché 24 ore di un solo gioco Cazzo Cosa fa Cioè mi deve piacere veramente tanto Ciao Manuel Benvenuto 24 ore di un solo gioco Se fosse uscito Starfield Ci potrei anche fare un pensiero Solo che immagina Immagina questo scenario Io sono in hype per Starfield E voglio organizzare la live della vita Ok Ed è come Cyberpunk E quello è il problema Un secondo Che devi fare We didn't beat the game We don't like it È una merda bro Avevi fatto la 24 ore di Tomb Raider Non è vero mai Ho fatto una sola 24 ore 12 ore Ed ero in ufficio E ho giocato di tutto E che nemmeno ha portato la brioche La mattina Sì Mi ricordo Hai fatto la 12 ore di Tomb Raider Se non sbaglio È stata la prima volta che ti ho visto Con l'Xbox di pelle Grazie Kitar per i due mesi Giusto Lo stai facendo l'Xbox Vai time Sì sì Allora 8 minuti Ma mi viene l'ansia Lo devo scaricare subito questo gioco Li prego Te lo gioco uguale Urlando costantemente Mamma mia Mamma mia Non fai la 12 ore di 3 Sì il 3 luglio Prima di partire la faccio Molto caldo Sì Vabbè certo E non sei in hype per la 24 No Cioè non sei contento di farla Cioè sono contento Perché abbiamo raggiunto Dei record di sub Incredibili Bello Contento di stare sveglio 24 ore Non è che ne sia proprio Vediamo Mo vediamo Come Non ho ancora organizzato niente Non ho ancora scelto Di precisola data O l'uno o il due Miss all'uno Perché di venerdì è più comodo Perché così dopo Nel weekend dormo È giusto Giusto E ci sta Esatto Tanto tu il sabato sera Non fai live Quindi è bello comodo Poi se volete fare qualcosa In combo Possiamo fare qualcosa In combo Durante le vostre live Così Non lo so Eh vabbè sicuramente Sì se ti serve compagnia Durante la 24 Più che altro Cioè ti serve tanta compagnia La notte Io ho sofferto tanto Di notte sa Ti si sentite il mattino No non è tanto Di sentirti solo È che se trovi il gioco Sbagliato Tipo io ho trovato Un gioco dove dovevo Guardare un prosciutto Per dieci minuti Ho capito Però scusami Cioè la colpa È capitato Non è stata mia La colpa Io avevo giocato Pepe Simulator Oh madonna Te lo ricordi? No madonna Vediamo se sono ancora Su Steam Pepe era Pepe? No cos'era Quel simulator lì? Cazzo Sei minuti Sei minuti Non ha finito ancora a me Perché sale e scende Steam Meno male Mi fa sentire bene in colpa Io ho già installato Ho finito il gioco Eh vai Rido in faccia Vaping Eccolo lì L'ho trovato Vaping Simulator Che era il gioco del Pepe era Cioè perché avevo scaricato No non esiste più su Steam Ovviamente Perché se faccio Apri pagina del negozio Non mi porta da nessuna parte Però lo posso installare Lo installo Ce l'hai solo tu Venditi l'account Lo vendi a milioni di euro Vaping Simulator Va bene Dai Lo sto scaricando Vediamo Scarica addirittura Due giochi Ma non ne abbiamo finito niente Vaping Simulator Io ho due di giga Figurati Eh Ma Vaping Simulator Se lo cerco Ah ma il Pepe intende il Pepe Non il Pepe Io pensavo intendessi il Pepe 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 Pensa quanto ero disperato In quella 24 ore Però è bello Sono bello Le 24 ore Mi sono un po' divertito Deve essere sincero E lì no Tu sei La notte eri Una pezza di uomo No ero Ero uomo Ma perché sono Come fa a essere bello Scusami È stato bello Né un bel ricordo Ma sono stato un coglione Perché mi sono messo A dipingire i quadri E a fare la live di cucina Cioè non è fattibile Fare tutte cose insieme Eh no è vero E lì volevo Ma ragazzi sta partendo eh Nell'attesa di Parta dal gioco della vita Non è vero Manuel Però ti ringrazio Scam si muove Stanno divertendosi Dai 5 minuti E ci siamo Il treno È vero che partite di treno Siamo in treno La notte lì Non proprio il DCS Gatto Durante la tua 24 Per caso Ti andrebbe di giocare Non lo dico io Aspetta che L'audio è altissimo Ma sei scemo gatto Che gioca a Counter Strike No Magari è pazzo No Ecco qua No Sì Vabbè Immaginavo Tu vuoi giocare A Counter Strike Ma c'è 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 Io dormo Ma non è mai uscito Di notte così Ci vediamo e giochiamo a Counter Strike Sì è vero È vero Dai ci sono quasi Catto Siamo tranquilli Vabbè intanto faccio Questo faccio Vapping Vapping simulator Paper Edition Ecco la dice Ce l'ha anche Twitch A posto Io non smetterò mai di proporlo Fra Sappi perfettamente Che un sabato ti dirò Vuoi giocare a Counter Strike E poi vedi tu come mi vuoi rispondere Insomma Non ti voglio mettere pressione Non sta passando Nessuno vuole giocare a Counter Strike Ragazzi 4 minuti Tu Karim mi hai quasi fatto? Io ho fatto Sono dentro No No Adesso mi senti Mi mancava un minutino Quando te l'ho detto No Bastardo 3 minuti Basta Adesso sblocco il download Non mi interessa Ragazzi Ah ma non stavo facendo con limite E com'è possibile che non laggo? Eh perché non stavi giocando Niente È finita Ragazzi Io devo riavere il PC adesso Perché? Ma hai parlato tutto Mi hai parlato del paper Eccolo qua Prova Ma l'hai aperto? Sì E ci sono Un piccolo errore Scusatemi Lo disinstallo subito Comunque Per davvero Quel gioco Mi ha messo un po' di tristezza Quello che abbiamo giocato prima Perché No Semplicemente Andava gestito un po' meglio Secondo me No Bisognava giocarci prima Per capire che non fosse per noi Non era brutto Era semplicemente Sbagliato L'advertisement No Vi faccio questa Cioè Non è diverso Cioè non mi sembrava affatto divertente Tra lasciando stare Il che possa essere bello o no C'è il mostro che T1 shotta Eh no Quello lì è una stronzata È proprio un errore eh Però ci stanno Cioè sono anticipato Devono ancora magari Eh ma quello è Sono tutti i figli di Alien Isolation E anche Alien ti shottava Che gioco di penne Va bene Alien però ci stai Che è questo signore Ma che spalle larghe Due minuti Due minuti In vita amicato Intanto crea Così aspettiamo Eh vai Giocando C'entra di me Va bene Va bene Crea la room Password Eh no Già lo so Che lo fate Dai Sai che posso Unirmi Unirmi da te Nella lobby C'è la lobby Che ci fai in metro Sto aspettando Che si carichi il gioco in metro Culo Tanto Chi lo compra Dì Esatto Ma vi stream E io dove sono Dove è il mio personaggio Tu non ci sei Perché Non lo so Eccoti Io voglio essere Will Un minuto e 49 Arianna Eva Brian e Will Ok Che fai hai fatto Prende male in metro È in Equipment Un minuto e 42 Un minuto e 40 Che schifo di modelli Sono questi Non me lo spoilerate però ragazzi Fanno schifo i modelli Lino guarda Eh no Vedrai quando entriamo Ciao Luca Eh quando entro io Tra un minuto Un minuto Sai quante cose cambiano Nella vita Come vi vuoi mutare No no Era Karim Ho mutato Karim Non ci sa mai Eh sì Stanno prendendo i personaggi migliori Alien Isolation Non è un brutto gioco Semplicemente È molto fine a se stesso E purtroppo Ari Ha ridefinito un genere Insieme ad Outlast Il mio genere preferite Il mostro pisello Esattamente Insieme ad Outlast Puro Diventa Dopo un po' pesante Che ti devi nascondere Nel cazzo di armadietto Devi Sei Come si dice Alla merce del mostro No io non ho il collo Ma ho la testa grande così Eh E la cosa che mi fa più tristesse È che continuano a farli Cioè non si arrendono Perché è facile Perché il gio Perché la gente Li gioca Li giocano tutti Ma io voglio capire Chi Chi Lo voglio incontrare Voglio parlare A qualcuno E diciamo Mi piacciono i giochi Così Perché la differenza Tra un horror Fatto bene Scritto bene Con tutte le sue cose Fatte bene Il mostro pisello È molto più rigiocabile Perché Ti insegue Devi andare nel posto E quindi la gente Ci gioca per più ore E la gente Non ha ancora capito Che Non è che devi spendere Dieci euro E devi giocare Centomila ore Tu puoi spendere Dieci euro Puoi giocare due ore E divertirti come un matto Ed essere contento 8 seconde 7 seconde Ma poi Alien Isolation Durava 40 ore Non finiva mai Quel cazzo di gioco A te piace Però a te piace anche Hollow Knight Facciamoci due conti Ma è giusto Così per capire Cioè Che cosa è che piace Perché magari Loro hanno un punto di vista Che io non capisco E magari potrebbero piacere Pure a me Non lo so Ma perché c'è il brivido Del non sai mai Quando sta per arrivare Quel brivido lì È vero Che c'è Dura dieci minuti Nei primi Esatto Nei primi cinque Dieci minuti Poi il gioco dura Dodici ore E tu sei lì Hai giocato dodici ore E otto le hai passate Negli armadietti No voglio capire Oh bestialadra Che è passata Antonello col fini Non ha il collo La testa piccolina Antoine Non c'è al collo E io chi sono Sono un essere Un essere Un ammelarcos Vabbè io sono ovviamente La signora sensuale Vai Equipments Wait others Clicco per essere ready Io devo wait Clicco anche io Per essere ready Mamma mia Non è Difficoltà medio Ah difficoltà Quante ne vuoi Abbonda Abbonda Va bene Eh Dead Space Infatti Dead Space È un bel gioco horror A me è dispiaciuto Un tantissimo Per Backroom Quello lì Che giocano Mamma 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 Ma voi dovete giocare ancora A The Backroom Project Quello lì Che sembra figo Che tratto dalla serie Oh Tramma Storia Certo Storia Certo 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 Non c'è Si sta raccontando Io sto leggendo tutto Io sto leggendo tutto ed è ridicolo come sta raccontando la storia E' partito poco con calma Eravamo io, Fidel, Paco Peggy Ma veramente Mia mamma e mio papà si sono conosciuti Tandone, papà Poi sono arrivato qui Cioè dovevo mettere il veleno per i topi Ma che c'è sto giro poi Sì Oh no Ti riassumo la storia Lui Mentre lavorava come un disinfestatore Di razzi Vede una creatura in questo ospedale psichiatrico Che poi viene chiuso E adesso siamo tornati dentro Bravi Questa è una storia Qui c'è scritto Exit Ah no Me ne vado? Ah no aspetta Karim Ma come cammini sei un soldato Ma stai marciando Stai marciando Stai marciando Non stai camminando Ho cambiato perché quel gioco era Non mi è piaciuto proprio Scusa gatto Dove mi arriva il telefono? Telefono? Sopra la testa Eh ma quanto è alto? Scusa è gigante Eh vabbè siamo noi piccoli Si cammina come un soldato ragazzi Take me away Dice il telefono Take me to the source Allora Perché se ce l'ho mai dito Ah no ma non si Adora di bo Esatto Allora dobbiamo trovare Tre reliti protetti dalla creatura Cattu ma come cammini? Si lui è durissimo Madre mia Ma tu che cammini con le gambe aperte C'hai le balle grosse E tu con le gambe senza le ginocchia però Ho preso una chiave del watcho Qualcuno ha caccato sangue qui Attenti El cos'è che hai trovato? Siamo scritto V-C-O Watcho Dov'è l'inventario scusatemi? Non c'è è in alto a sinistra Allora dobbiamo trovare I tre reliti protetti dalla creatura Esplora tutti i livelli Ma come i tre reliti? Le reliquie Reliquie? Relix Ah no è relix è vero È reliquie Vabbè ma che ci stanno le gambe E le balle fasane Dei titani che ha infilato E infilato Ce ne sono tre Tre navi enormi Ho sentito un ECG Ma forse mi sbaglio Un ECG hai sentito? Come oggi poveriggio? Fate la sfilata di Roblox Chissà se un giorno Veramente la faremo Tutti quanti siamo Madonna che immondizia era la sfilata di Roblox Ho pagato pure 5 euro Per servire di merda I relitti M'hanno bottato pure Per degli anziani Dei reietti Bevo un po' d'acqua posso? Noi non ce ne abbiamo queste fontanelle in Italia Che previ e spruzza l'acqua Perché non ce ne abbiamo? E da noi l'hanno trasformati in bidet Sono bidet molto alti Perché qualcuno in Italia Non pensava fosse per la bocca Era troppo basso Ci ha messo il culo Ha detto Ah che bell'idea E l'hanno usato così Ragazzi guardate che c'è scritto Ah un tempo Erano uscite C'è scritto 50 volte In mille Che cos'è questo? Ho trovato dell'inchiostro blu Beh scrivimi una lettera Ah no una carrozzina Dormitorio 1 E' chiuso Ah io dovrei vedere il dormitorio 5 C'ho io la chiave del dormitorio Il dormitorio Quale? Del dormitorio Dov'è? L'ho sbloccato il dormitorio Non ho paura del buio Il 3 Era aperto Era gratis C'è un pappagallo usato Guarda Che schifo Io ho trovato un rosario Salutamelo E' una foto inquietantissima Di una signora con un signore E' un'altra foto di due signore invece Voi non siete mai andati in posti abbandonati Tipo così? No No perché è illegale Ah Allora niente Non manco io Io me la ricordo la tua storia Me l'hai raccontato E mi ricordo anche perché ci sei andato E tutto il racconto Solo che sono cose illegali Non si possono raccontare No non ci sono mai andato ragazzi Quando avevo raccontato scherzavo Scherzavo Grazie a sanguinaggio per 25 mesi Ho trovato una croce Grazie mille Non serve Un rosario Anch'io Preghiamo Rosario mi raggio Ma lo sono stato in chiesa ieri mattina No ieri Sì Che non c'è andato da una vita Chi è che ha la libreria La chiave della libreria Qualcuno si vede Io ho quello del bagno Forse In alta a sinistra leggi Come mai avete cambiato gioco? No dormitorio e maintenance room Scusa mi ho detto un'altra Non mi è piaciuto Dai mettiamolo così Non voglio essere Superficiale Per caccare per terra Non sono riuscito a recuperarlo alla fine Mi racconti un poco del gioco della polizia Allora quel gioco della polizia Non è niente Letteralmente Che cacchio Non c'è la mostra Ciao Che c'è la porta Chiudi dietro No Arriva? Sì è lì È lì Cazzo di paura Mi ha fatto Stavo ascoltando cosa stavi raccontando tu È tranquillo È vero che è un gioco di mostri questo Ma senza un segnale Senza niente No no Lui è arrivato Ma gli faccio una paura Sei morto? No no Però ho uno di vita Ah benissimo Ma comunque Ma c'è Ma non c'è la mia fianco Ma non c'è la mia fianco Ma non c'è la posso mostri Chi te strambiva Non l'ho visto Mi ha fatto paura Che ha fatto Comunque non succede nulla Letteralmente Cioè tu puoi fare quello che vuoi Prendi le persone Ti vai vicino Le ha manetti E finiti il gioco Ma come non hai C'era l'intelligenza artificiale Era disattivata Ma quali intelligenti sono deficienti Non facevano niente Ti giuro C'è il mostro lì C'è il mostro lì Oddio ma c'è il mostro lì Veramente E come mai sei così Sbaldanzoso E perché fa troppo ridere Ti dico solo che sono arrivati Anche i sviluppatori in chat Non sapevo che fare Non ve l'ho chiuso È che brutto Dopo che sono arrivati Non ti piace Sì Hanno detto Non capisco che cosa stai dicendo Ma sono sicuro Stai dicendo che possiamo Lavorarci meglio su Ho detto Sì sì È vero Non era sbagliato Dai Ma Devo non ricostruire Tutto la cava E cosa c'è per aprire Sti armadettini qui Eh a trovare del loot Dici Allora ragazzi Perché io ho trovato un cazzo Ma perché la mia vita È un po' più piccola del solito Io ho uno Ho proprio uno Cioè mi guarda Muoio Infatti Vado di sotto Che c'era Era di sotto no Il medikit Sì È pieno di forti Ho trovato Ho trovato un posto dove Serve una Un codice Scritto su un diario C'è scritto 15 di gioco Bravo Linus No Allora Lui è incastrato In una zona È l'asso Lì per la mano di Dio Ho trovato le chiavi Della laundry Avete visto la laundry room? Eh ma mo È tutto uguale qua Ho trovato anche La doctor office floor Io mi sto curando Nel frattempo Io sono andato sopra Ma suona il telefono Grazie Ciccone Sì pronto? Non posso Pronto? Non va Non so Eccomi Non va Allora Ho la chiave Buonasera Buonasera La grandissima È anche il bagno Posso aprire un sacco di porte Grazie Buonasera Meno male che ci siete Due delle tari La serata Ho trovato la scheda Ma niente chi? Nella laundry room Ok Apri la finestra Qualcuno ha la chiave Del dormitorio 7? No Ho trovato un anello Anch'io ho trovato Due ringhi Ho trovato Gatto guarda qua Che posso fare Ecco Vai È aperto Sì Aspettiamo carima È la stanza tv questa? Io sono al piano sopra Ho trovato anche la chiave Io ho trovato uno stetoscopio Ah era una reliquia L'ostetoscopio? Ah com'è È una reliquia Scusa Ma se lo scopi Non è una reliquia Ma bastava dire Qualunque supermercato Lo vendono Ma veramente In farmacia Lo vendono al supermercato Lo stetoscopio? Ma credo che si trovi Abbastanza facile Non credo di averlo mai visto Ma non giro la parafarmacia Che c'è nei supermercati Sì Sai che non lo so? È una roba talmente È una roba talmente banale Che puoi comprare Su Amazon Non così tanto Addio mio Su Amazon ha voglia Che te lo vuoi comprare C'è Amazon sì Ma al supermercato Sai che non so mica Magari oggi Come oggi no Perché C'è anche il marchio Figo C'è 106 euro Ma la puttana della puttana Ma voglio morire 194 euro Settoscopio diagnostico 3M Littleman La salute costa Cardiologi 4 Littleman Littleman Con due N Littleman È un uomo armato di ascia Ciao È il sabo 194 euro Che sveglia Ve lo linko nel caso Eh tu le hai pagato 20 Ma sarà da barboni il tuo Scusa vuoi mettere Dammi il referral Mi ho dato il referral Chi è? Ragazzi ho sentito un suono È da me Mi ha seghettato un po' Da me e da te Ciao carimbone Ciao Io sono sempre di sotto Allora ripeto Le mie chiavi Doctor office Piano 1 Magnetic key Keeper Key doctor Piano 2 Ciao È free Allora piano 1 Piano 2 Andiamo al piano 1 Andiamo al piano 1 Ho aperto la manutenzione Io eh Qua qua Vai ti sei sotto Gatto Ho trovato una crowbar Ahah Tensione Che è sta roba Ma come cazzo corre Io sei scemo Ma sto scemo Che paura Stupido Scusami Scusami La vedete l'animazione No non la vedo Sì Sta scacciando le mosche Comunque qui c'è un note Ed è 33 Quindi ci sarà Perché è un dottore No Perché stream Director's code 33 ma anche la seconda parte Ah ok 33 Di pomeriggio Mi hanno chiesto come mai non sei live Ho detto i tuoi giorni Per i sette mesi Gianluca da super Innovate per il tre Io sto qua È morto È morto È morto È morto Tutto di merda Hai capito Mannaggia la miseria Ma lo campera poi Cioè Elisa E non ti preoccupare Io ti salvo adesso Aspetta Vorrei pure vedere Che non mi salvate Rise player Comunque è lunedì Ma quanta roba hai perso La carta di credito hai perso Te la rubo Con facile acquisti Ma quella carta di credito Raccoglito Sei arrivato Eh basta Ma come cammini con i piedi Tutti l'archi Guardi che hai lasciato Tutta la roba qui L'ho presa io adesso Sono il maestro di chiavi Però i bagni sono safe Ricordiamoci questa cosa Ciao Non lo so perché Chi menti in su room È rossa Perché è rossa? Salve signore Perché l'hai usata È perché me la ridai Caputana Sei qui Scappate Sì Sì trust Cioè io I miei orari Sono sempre quelli Da Una vita Però domenica Faccio line Così Su room Ma che serve Sta roba Non so Allora Allora Forse c'è una Chiave verde Che era 33 Dimmi altri due numeri 2-1 27 33 2-7 Vediamo No Metti 2-1 33-1 Niente Andiamo via Rinuncio No Ho staccato presto Ieri fede L'ultimo giorno L'altra volta Sono andato a dormire Alle sette Non volevo farlo Di nuovo Bravo Sì No ma non perché Ho staccato tardi Ma perché non riuscivo Proprio a dormire Mi serve questo piede di porco Ma mi fa ridere Il medico Te l'ho finito Bravo Grazie Gentile Ho capito Avevo uno di vita lì Non mi ero Chi è? Eh Mamma mia Era lì Mamma mia Ma non avevo mica sentito Che era lì Ci deve essere La stanza del dottore E non ne saliamo le scale Al primo piano? Ok Sì anche al primo C'è al primo e al secondo piano Sì ma non trovo le scale Non trovo Io non trovo i porti invece Come lo chiamano? Eccoli qua Ma ce l'ha con me Ma questo qui è uno stronzo Magari qui dietro c'è una Un quazzo Eh no Non c'ho la chieda La libreria Ho trovato una stanza Che è blu Non interagibile Da quanto pare Sì Sono porte inutili Credo Bene Di bellezza Di bellezza Di bellezza Allora No 2733 33 erano i primi due numeri Ragazzi Gatto Hai la crowbar? Sì Vieni nella laundry room Ho trovato una vento Che puoi aprire Sicuramente arrivo Perché sai Ovviamente dove Ma perché? Ma se parla Hai finito Doctor Ski Chi è che c'è la Doctor Ski Ce l'ha venita Una magnicana 33 e poi l'altro era 271 Ragazzi mi potete provare? Però questo è padlock È il padlock Amici sono morto Ma di nuovo Sto disgraziato Dateve la mano È in fascia Ho trovato un'altra chiave Della libreria Ero fermo alla laundry room Per aspettare gatto Dove sei? Che piano sei? Alla laundry room Come sono morto Di tristezza Un po' di badurnie Ma dove sei? Primo piano Da dove chiami? Primo piano terra O primo piano? Primo piano 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 È pieno terra È pieno terra Che vuol dire? Dove sono tra Andere un ragazzo Dove ricaricare? Che ne sono Piano terra Piano 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 Allora Trovatemi Dobbiamo scendere T'ho mutato in game Non riesco Perché non riesco a passare Perché la porta si è scardinata Vedi? Bravi Sto piede di porco È colpa tua Perché io voglio Di qua Di qua Scendi Scendi E qua E qua E qua si sale Ma perché non mettono le scale di tutto? Ma perché non scrivano una mappa Una cosa? Ma che posti è? È sceso? No Non ce la fa Esatto 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 Guarda lo facciamo face Guarda come muoiono Stevie Mamma mia Bravi Moriamo per arrivare a salvare te Disgraziato Io perché sono morto Perché ho trovato una cosa Ma che hai trovato sto cazzo? Dove sei? Che cazzo ne so Qui vicino Qui vicino Rispetto a chi? Vai a destra Nella mensa Vicino alla mensa Salta Vai a sinistra Vai a sinistra Non c'è Ma non mi ricordo Vai di qui Quasi Quasi Ecco Disgraziato Sto scemo Guarda nella laundry room C'è il pistolone Guarda Sicuriti quella Ah quindi Lo ho detto Ecco qua Guarda apri Ma lo potevi fare a mano tu No serve il piedi porco Il piedi porco serve A me dice E prende Appunto Lo chiede Mi dice Putta way Putta way Non lo so A me dice Need crowbar to Drag this object Ecco qua Ma che cosa Ma perché mi si appiccica? Che succede? Ragazzi Ma non ci sono vatti Ma scusami Non c'è niente E quindi E per nascondersi Forse per nascondersi dal moff Ma Ma vaffa No è randomico Come tutti i giochi Col mostro pisello E quindi Perché sono core Il gatto ha messo 470 porte diverse Da aprire Questo è pazzo Chi è? No è Non voglio Ma andiamo via Doctore E dove andiamo? Ciao Fraps E nelle altre scale Non ci sono altre scale Per salire Ah ma qua c'è Della roba E guarda Ah ma qui si può passare Si può passare Ma che storia E c'è un altro coso qua Qui sono le altre scale adesso Gatto serve la crowbar Ma porca puttana Al piano terra Ma stiamo insieme No al primo piano Allora Sali la scala Ma che piano Eh però mi sa che voi siete saliti L'altra scala Sì No no Non c'è il mostro Ecco Ho sentito roar Non c'è il mostro Vai Mi dico Ero distratto Scusatemi Ma questa è la stanza Di una bambina nascosta eh La bambina nascosta Sì E' la stanza nascosta Di una bambina No quarta Era incatenata Alla vasca Lei voleva No era l'anticristo Guarda Questo è un esorcismo palese E c'era una loli Ah E' un gattino che si masturba E delle meatball Perché Ah eh beh cibo eh Voglio restare Tutto il giorno Che stai dicendo Mentre erano mutato Che bello Alex Britti Andiamo Era bellino Facci vedere i dettagli Nella stanza Non di aver mai sentito Nessuno dire Che bello Alex Britti Che bello Effettivamente è la prima volta Però è una parola Non è brutta Ma proprio non l'ho mai sentito Ah non è brutta È un bel ragazzo Era un bel ragazzo Adesso Alex Britti Io non so che Come è fatto Ah è un bel ragazzo Un bel signore No no Ma non per quello Era proprio perché Nessuno davanti a me Ha mai detto quella frase lì Sono una coppia di parole Che non ho mai sentito E ce n'hai misa eh Andiamo su È da un po' che non lo sento Alex Britti Cosa fa? Sì è un chitarrista Ha aperto La Doctor Office qui Oh vabbè Le canzoni più popolari Sono delle canzoni di pelle Ma vabbè Lasciamo sta È come tutti Oh oh guarda Che qui c'è una situazione Di mutato Sei scemo? Chi? È il manichino La signorina invece È giraia No è quell'amico di Naruto Quello cicciottello Come si chiama? Quello che c'ha le girandole in faccia Ah Ho trovato lo stetoscopio Un altro Ma sono due stetoscopi i relitti Pensa I relitti Non ci stanno in tasso Eh no Già abbia trovato quello Shoji Esatto Shoji 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 Shaolin Soccer Mi manca tanto anche Shaolin Showdown Che bello che era Shaolin Showdown Vuoi vedermi qualche anime Voglio vedere Che era un cartone animato Con questi quattro ragazzi Che appunto facevano Il kung fu E dovevano trovare Questi Questi oggetti Che erano Che gli davano Dei poteri particolari Tipo c'era Una maglietta Che diventava un'armatura Oppure una moneta Che li faceva saltare Come delle Come delle cavallette Ed era bello Perché Quando trovavano Una reliquia Quando trovavano Una reliquia C'erano loro E il cattivo Che si dovevano Giocare la reliquia E mettevano in palio Anche la loro Che usavano Durante la battaglia E quindi Chi vinceva Prendeva Sì Vinceva Quella nuova Più quella Dell'avversario Ok Oddio E poi la Power Stone Sì Power Stone Che è un gioco No sai che no Non mi dice niente C'è questa cosa C'era un ragazzino Che era giallo Che era Praticamente Cosa Come si chiama L'amico di Goku Madò che belli Però giallo Eh vabbè Tu fatti su Ragazzi Io Non sto Ho capito Ma come Servono altri Che più per aprire le porte E vabbè Fin qua ci siamo arrivati tutti Ragazzi Sono dormitorio 5 Ma l'hai aperto Sì certo Eh vaffanculo Dillo no Ah c'è L'ho detto Ho trovato lì Chiostro nero Bravo Scrivono una poesia C'è il mostro qui Chiudi Chiudi dentro Eccolo Grazie a B Stolperi 64 mesi Io ne mente C'ho la bronchita ai piedi Ma hai visto Era su Cartoon Network Ah ecco Beh micchia Non è che t'ho detto Un canale A pagamento Chissà che Era Giuro Non ho mai voluto vedere Cartoon Network Perché non prendeva Grazie Rock E poi se non sbaglio Era anche a pagamento Cartoon Network C'era anche nei canali normali Quando è arrivato Il digitale terrestre C'era Cartoon Network Boeing E compagnia bella Quelli Erano No K2 È arrivato dopo Era JTX Che poi è diventato K2 Sì JTX Io vedevo JTX Vabbè Dividiamo Era su Sky Io non ce l'avevo Sky All'epoca Che cazzo è successo Ragazzi Sono diventato Una scrivania Non ho capito perché È vero Sei dentro la scrivania Vabbè nel mentore Mi curo però Bellissimo anche Billy Oh no Lino E adesso Eh vabbè Ti tiro fuori No Sotto il tavolo Ha detto Go under the table Tirati fuori Vabbè Subito sei impanicato Sto deficiente Quando da piccolino Facevo finta di star male Stavo a casa scuola Mi guardavo Cartoni animati Ma veramente a valanga Anche io E come si chiamano Le televendite E io guardavo Super trambusto Però era tipo Alle sei e un quarto Del mattino Che bello Quando mi svegliavo Presto con mia mamma No Stavo male perché Mi svegliavo alle sei Un quarto del mattino Ho trovato Un inchiostro rosso Posso correggergli errori Super tre gonzo Allora Adesso ragazzi Ma facevi finta Di stare male anche tu Se poi ti svegliavi presto Che Ogni tanto Facevo finta di stare male Ogni tanto Mi venia la gastrite Per davvero Dipende Dipende Ok Però quando stavo a casa Madonna mi spaccao Di cartoni Era bellissimo Io l'unica cosa che guardo In tv Ogni tanto È come hanno fatto Perché è l'unica cosa Che mi piace tanto Che bello Guardavo tempo fa Quello lì Eh Guardate La puttana di sua nonna È il cattivo Che da lì là Ora la tv Veramente Non la guardo Io mi sono fatto Discovery Plus Ed è inutile Perché Che fa Sei girato Sono morto No Dove sei morto È poco prima di uno di voi È incredibile A me piace un bottle I contenuti che ci sono A me no Perché mancano tutte le cose Che volevo Vedere su Discovery Che cazzo di visuale è Da sopra la testa Scusatemi Che codice Che avevate trovato Per donare Uno era 33 E uno era 271 271 Sì Sì È aspettato Lo del padlock era Dove sei L'ho trovato Uno di voi Stava correndo via dal mostro E lui si è girato E mi ha ucciso Quindi tornate sui passi Probabilmente sono io Adesso Grazie a volo 57 volte Però chi piano era Ti ricordi Grazie mille E il secondo Se non sbaglio Se non sbaglio Grazie anche a Fank Il secondo O il primo No no Il secondo Il secondo Piano terra Primo e secondo piano Ok bravissimo Allora dove sto io Un secondo Vi dico solo che ci sono Tre stetoscopi Non so Molto bene No saranno da mettere Ah ok Sì Allora Sì ma io non neanche visto E ti ho corretto Lino Com'è possibile Sono mago Allora O sei schermo tu Sono da mettere Quanti l'abbiamo trovati Due Due E due Cazzo manca l'ultimo No ah no Dice uno perché Gatto è morto E gli è caduto tutto Probabilmente Eh sì Ok Che pare che ho veramente Tutta la roba lì a terra Ti ho trovato Ok Ma chi Come stai messo bene Ci sono tutti i miei averili Grazie Prendite lì che ti porto Alla stanza dove piazzare I I Poi io Discovery Plus Lo sto divorando Ti stavo dicendo Che gli manca Ma anche come è fatto Vini vini Eh lo sono Ma quello Mancano i Meatbusters Che porca trovi Quella lì Sono le due serie Più Più importanti E storiche Di Discovery Cioè io quasi L'ho fatto solo per quello Ok Qui si devono mettere Cosa Da Tadashi Dove Qui dove Qui Qui per terra Dove Quanti che slot Qua place E non me lo fa mettere Oh ma tu Ma come l'hai visto lì Ma se Ah non l'hai trovata tu Mi dice Boh A parte quelle Dobbbero trovare Tutti Lui Ovunque Da Tadashi Siamo morti No no Eccolo lì La pezza di Marstron No E sto per morire Io guardami come muoio No no Sono morto Sono morto Non vi preoccupate Me lo vedo io Ragazzi Non dovete aver paura Ci sono io Che ho mai fatto su Discovery Plus Non c'è appunto Neanche coso I meatbusters No lo guardo per altre cose Io Discovery Sarebbe stato bello averli Però non ci sono Eh ma è quello che mi mancano Poi tutte le altre robe sono Non lo so Un po' generiche Oh Lino Eh scusate Mi ho aperto la porta Mi sono trovato un nudista Allora Oh my Sauron Tu cos'è che guardi Tutti i documentari italiani Ah Ah sì Ok 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 Una marea Sì però non è la loro roba Diciamo Cioè non è la roba Sì sì è loro È Discovery Fatta da loro Sì Almeno Perfetta Non mi ricordo Alcuni sicuro Poi gli altri Io li guardo a ruota Non me ne sono accorso No Ti hanno guardato anch'io Un paio di roba italiana Ma perché c'era lì Secondo me Non era proprio roba Di Discovery Ragazzi Mi è nel Cure Ma quella è roba che c'è solo libero È una cosa bella Sì 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 Assolutamente No Lino Ragazzi il bagno non è No Lino No È morto È morto Sì Ciao PR Aspetta Eh c'è scritto Oh aspetta Ok Nobody can say no Ciao grazie James May fa la serie in Italia Sì è vero Che cosa fa? Lì perché già abbiamo fatto Ecco a 900 si fa Cambiamo posto Andiamo a scuola O i suborbi Graffano suborbi I suborbi Non è mai I suborbi Dai A me non possiamo cambiare Tanto che c'è frega Stiamo chiacchierando Sì E tra l'altro Vi posso dire una cosa Che magari può interessare A tre persone della chat Mh Ehm Mettete pronto Il canale YouTube Ufficiale dei Power Rangers Sta caricando tutte le serie Come? Tutte Sì dalla prima Fino a È arrivato a Samurai Quindi siamo A qualche anno fa Le sta caricando tutte Complete in inglese Però Se volete A me fa ancora ridere Come mai Cioè I Power Rangers Cosa sono E ti redi? Ho messo? Non è vero Non l'hai messo L'ho tolto I Power Rangers sono La più grande bugia Mai Mai Per un po' Sì 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 È perché loro Prendono i combattimenti E le scene con i personaggi principali In costume Dai giapponesi Da Seitan Seitan Non mi ricordo il nome E E poi Le parti parlate degli attori Le rifanno Però Però non sempre A volte Combattono Vestiti Senta esatto Combattono vestiti Che si tolgono il costume Hanno fatto un mischione Mi sa che però È cambiata negli ultimi anni Allora all'inizio Era solo quello Poi dopo È diventato diverso Perché Cambiate Ma una volta Semplicemente era Veramente Poco costoso Farlo Guardatevi i documentari I giocattoli Della nostra infanzia Su Su Netflix È bellissima È vero Quello dovevi guardare È vero Dai consigliate un po' di tempo fa La schippo io La signorina Che tanto Non me ne frega Sì Grazie Mi hai fatto schippare tutti Perché I giocattoli Della nostra infanzia È fighissimo Ti racconta praticamente La storia di tutti questi Cartoni animati Che sono nati Dai giocattoli Infatti anche i Power Rangers Loro hanno portato I Power Rangers In Italia In Italia Insomma In America E poi in Compagnia Bella Per vendere i giocattoli Perché vengono i diritti Quelli Quello che fa girare i soldini pure Giustamente Sì sì ma In realtà La metà dei cartoni animati Che Che vedevi da piccolo I Man E Compagnia Bella Sono stati creati Per vendere il giocattolo I Man Sai che non mi vedeva proprio Ah è fighissimo Ah Le reliquie Sono tre Martelli Martelli da giudice Sì Però giganti Madonna Ma i soborghi Quanto bui Questi soborghi Sono soborgissimi Sono Ma che c'era di non E che c'hanno questi Quale era il mio cartone preferito da piccolo Sai che non mi vedi bene Esatto Action Man I Transformers C'è tutte Le tartarughe ninja Hanno creato il cartone animato Solo per vendere il giocattolo Prima hanno creato il giocattolo E poi ci hanno fatto il cartone per venderlo Perché è la miglior pubblicità per i bambini Aveva una specie di amore spasmodico per piedino nella valle incantata Che bello Ma quelli li sono film Però Mi ho trovato il rosario Ma non so che serve Tutte le porte Le case Sono chiuse Come? Le servono le chiavi Le chiavi Per parlare Mi ho trovato il rosario C'è una piscina vuota qui Ma dobbiamo parlare così tutto il tempo ora? Va bene Vuota Oh ti prego Ciao Mimi Parla in corsivo Corsivio Amio No ti prego Cos'è un fiorellino questo? Fiorellino della vita mia Che cazzo Ok Ma c'è qualcuno dentro la casa qua? Ci so io Ma avete aperto la casa? Noi sono in un'altra casa Eh non è quella allora Ah aspetta però c'è un garage Ha aperto I chiavi La living room Ma quando ce la volevi dire? Pezzo di merda Non lo trovate Ma la frase dire sono entrato dal garage Non potevi farla Non potevi dirla Perché sei andato dal garage? Sei entrato dal garage lino Ma che cazzo Ma veramente? Sto parlando di piedino Ma secondo te Eh c'è il cervello limitatissimo Però Eh buongiorno Ho trovato anche un adello Se lo vuoi Eh non lo voglio Io ho il piede di porco Eh se serve Ma spaccaglielo in testa Ma stiamo parlando di piedino Cosmo Ha fatto saltare la cazzo Addirittura Ma perché ne so Tutto esclamativo piedino Perché prima la trama L'avevi seguita In maniera A vincente Ma io il piede di porco Perché un lucchetto mi blocca Che poi questo lucchetto non apre Quello era già grande Se lo selezioni Ti diventa gigante Che ti permette di Mettere i codici Ho capito Però Scusami In questo tipo di porta qua Inutile No raga Adesso mi spammi nel piede Maledetto Scusami Mi dimentico Bugni Mi stanno picchiando Aiuto Anche perché sto cercando di pensare ai cartoni Perché mi interessa Mi guardavo tantissimo E non guardavi Cosa guardavi tu E sto cercando di ricordare Un video Però non posso raccoglierlo Perché mi guardavo tantissimi Notebook Ah tra l'altro Qualche giorno fa Ho rivisto un pezzettino Di Tai L'uomo tigre Ecco Ma È una roba devastante Cioè se lo guardi Ma la gente viene scartavetrata Sulle corde Ma proprio Mi indico Dove A cena Guardavo sempre Tiger Man con mia madre E il pomeriggio La mucca Carol Carolina Oddio come si Quel cartone con la mucca e la tartaruga Come si chiamava Franklin La tartaruga Bravo Ma Franklin Come bavo Veramente No non è Franklin Era una mucca con i piedi Con le scarpe Questo mi ricordo Franklin sa lacciarsi le scarpe E sa contare fino a 10 Alvaro e Camilla Alvaro e Camilla Alvaro e Camilla E sono i principi D'Inghilterra A Franklin si era rotto un giocattolo Devi vederlo Incredibile E tipo uno zio gli ha detto Vabbè basta solo un po' di olio di gomito Per aggiustarlo E lui gli fa Vabbè il negozio lo avranno Cazzo Io avrei riso da morire Per quella cosa Ti giuro Cì ma tu che bello Che era Alvaro e Camilla Mamma mia Ma hai sentito Ma non è che magari È una roba solo Meridionale Allora Allora Ti ho mai sentito Alvaro e Camilla È molto vecchio E lo trasmettevano Su Telecapri Benissimo Io non credo aver mai visto Telecapri Effettivamente Eh no ma è come Tele Lombardia O Tele Subalpine Che non c'era Un altro E poi è che sono dopo il 100 Esatto Quando ti annugliavi a casa di tua nonna Che andavi al canale 997 E dice ah guarda c'è Goku Ma mi ricordo che se andavi Oltre una certa soglia Oltre un certo orario Si vedevano delle pere anche Sì ma voglia Non parlo del bagaglino Parlavo proprio di No no c'erano Chiamami sono calda Esattamente quelli Esattamente quelli Comunque dopo guardatevelo Solo esteticamente Perché abbiamo gli stessi ricordi Vabbè non so parlare sul sit Basta Dimmi scusami Camilla e Alvaro Dobbiamo guardarci Era questa mucca vestita Con una Come se La salopetta Non sbaglio Che arriva ai suoccoli Che sarebbero Che cazzo è stato Che cazzo di urlo è stato È un pagliaccio credo Non ho visto bene C'è il martello però Ma è venuto un infarto Ma è il signore Lungubre Oh bestia Ma è proprio un pagliaccio Con un accento in mano Quanto è pizzi Io vado Mi sono incastrato No mi sono incastrato lì Non è un nascondiglio Ok Abbiamo bisogno Della Crowbar E c'erano Signorine Stragliate Di solito Seminude Non si vedevano mai la vagina Mai i genitali Si vedevano i seni Erano film eroticini No 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 Era Oddio sono entrato dentro l'armaro Come si esce Ah guardando fuori Ok Ok Tu dovevi telefonare E ti diceva le porcate Ah Era l'199 Solo che c'era il canale televisivo Guarda Gesù Bello Com'è? È qui Vabbè Ramma è un classico Certo Anche se Non ricordo se mi piaceva o no Delle memorie un po' frastagliate I telefoni erotici No I telefoni erotici me ne ricordo Dico di Ramma Non ricordo se mi piaceva pure Ramma era fighissimo Eh sì Più che altro perché era molto legato Alla cultura giappo O cinese No mi sa che era cinese Ed era molto bello Eh mi sembra cinese Oh no Ma basta Oh mamma mia Ma gli è caduto quello su un piede quello lì La mu La mu Ma che bella che era la mu Mamma mia No si pronunciava Era già il primo softcore Ah ma rispondo lei 21% Benzionava Maru Buonasera anche lei Anime giapponese Leggente cinese Infatti è per quello mi sono confuso 106 Ma per caso ho trovato il codice Trust Qualcuno ha un codice di un codlock No C'era un libro prima Ah è vero 106 Bravo 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 Sì Guarda che l'aveva anche letto sto bastardo Ragazzi La chat Deve giocare con la chat Deve parlare Confermo 106 Basement code Ok Eh si vedo di sì Può essere Eh ma adesso mi tocca riguardare tutto l'uomo tigre Perché quel combattimento che ho visto Mi è piaciuto talmente tanto Perché non so perché in sto periodo Ho un bisogno di violenza finta Ma proprio forte Posso capire Non funziona Ah si Ho messo una vita Ok L'ho aperto Eccoci Vai Ciao Anthony Let's go Anche due fantagenitori Quel periodo lì Due fantagenitori Che bello Ma che è nato Ragazzi sono basket Che sei? Ma basta con sta luce C'è basket Lino Billy e Mandy Guarda qua Sei fermo lì? Guarda per terra Sapevo io Mi sono messo dentro l'angolo Grazie La parola da basket Quello è un glow stick Per il gioco Sono ci Credo che mi ha fatto la stessa cosa a Chernobyl Quando si è fuso il reattore Ma gli è caduto il reattore Sì sì Gli ha detto Guarda qui Infatti la serie è tutta fita Tutta fasulla Ma io sto La grata Eh vabbè La grata La grata Inizio anni 2000 Esatto Vent'anni fa Ci sono dimenticati la grata Ragazzi Avevo dieci anni Nei 12 anni Quando non volevo andare alle medie No Come non voglio andare alle medie Tantissimo Schippato tantissimo Che puttana Che urlo Che ha piantato fortissimo Sia lui che il mollo L'ho schippato Mi segue E mi sorride anche Vabbè In tutta compagnia Nell'armadio Mi sa che mi ammazza eh Sì Ci nascondiamo qua E io ho rischiato di saltare un anno Di dipende dell'anno Di essere bruciato per le troppe assenze No Eh sì Madonna ma il tagliavi proprio? No no Facendo finta di stare Arca miseria mi ha ucciso No Gatto dove sei morto Che ti venga a curare È un portico Eh vabbù Vabbù Dalla casa? Sì sì Stavo cercando se in altre case Si poteva andare o meno Se c'era Eh ma sai che può essere È molto probabile Però non credo che noi troviamo Delle chiavi In altre case Per case C'è il mosto tra me e voi E occhio Non lo vedo La chiave del vicino Troviamo La casa di fronte Comunque La casa di fronte Ah la casa di fronte Ah vedo la torcia Oh madonna Sì 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 L'ho visto Che cosa è Martin Martin? Martin 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 Ma perché mi voglio fumare il giocatore? Voglio fumare la sigaretta Ma sono cletino Come hai fatto? Che braccio brutto Come ha fatto? Ecco qua Qui No adventure time ero già grande Anche per quello ormai Sì Infatti sai che possono ormai Adventure time insieme con gli amici Piccoli criceti Grande avventure No Amtaro E guardavo anche Amtaro da piccolo Perché quello che capitava Capitava anche Doremi Tutto quanto Sì anch'io Io per un periodo Sapete che guardavo Le Wings No quella no No quello fa cagare in la merda Non ti permettere Mi permetto perché io ero team Witch Ah ok Oddio ma ho messo in testa Monster Hunter Che bello Monster Hunter dopo le Witch è uscito No il cocomitenza mi sa Come cazzo No mi sembra dopo A livello di fumetti era dopo La Monster Hunter è un po' più recente Non di tanto Non di tanto Bellissime le Witch Ti fa starno Non le ricordo molto però Le Witch Madonna mia Ma che cazzo di uro Madonna mia Ma è disumato Che cazzo di uro Lì Che cazzo di uro Lì No Però posso dire che Lo skybox è proprio bello Cioè di là che si vede la città illuminata E veramente Ma lui entrerà nella casa Sì sì Prima ci ha ucciso qua Eh non ho visto Stanno i nostri amici del cuore Ma scusa nel seminterrato No c'era solo la basket Ok E vabbè quindi questa casa Non l'abbiamo completata però eh Eh non so dirti Perché magari Gli servono le altre Ma come cazzo Si fa Ma come è possibile Praticamente noi siamo entrati In una lobby Di un gioco per parlare Sì Non è Va bene va bene Allora il gioco di prima Era Almeno adesso moriamo poco Insomma si È più confortibile Si gira Io sto esplorando Perché voglio capire Anche io Aspetta Infatti ci siamo rincontrati Ma che cazzo E però nessuna delle altre Delle altre porte Si apre Eh quindi è quella Stiamo sbagliando qualcosa Sì dobbiamo completare quella lì Mi sapevo Le mio mio che bello Anche quello guardavo Mio mio Ciao Luke Eh va bene Oh mio dio Signore anziano No Ma prego Eh guarda come scappa Karim Senza guardare indietro Il suo piccolo amico Grazie Così mi vede meglio E mi ammazza Le mio mio sono state La mia Susanna Madonna Che bella Susanna Mamma mia Quella della Susanna tutta panna Sì no vi racconterò la storia di Susanna tutta panna Oh madonna Ciao Eccoci qua Magino sia qualcosa di pornografico Illegale perché minorennissimo Ma anche io Ah quindi dici va bene Eh va bene scusa E' una cosa che passa a noi che è retroattiva Anna dai capelli rossi Le totali spacemi Lasciavano sempre un po' incazzato Di Susanna mi ricordo che Insieme ai formaggini Regalavano La bambola gonfiabile Eh di Susanna Manca a fare la posta E' proprio là Che dovevo Dovevo dubbi Quanto non avevo dubbi Ma io non voglio sapere Oh my god Voglio sapere la cosa Della chiesa Ma lo che Tra la racconto Dopo quando ci vediamo domenica Tra la racconto Prossima Tra la racconto Va bene Ragazzi Che ci posso fare Eh ma le totali spies Ragazzi C'avevano questo piccolo difetto Che loro devono andare in missione No E prima di ogni missione Diceva Ok stavolta vi do questo Questo e questo Ma porca putera Ma dammi tutto Che cazzo vuoi dire Che mi dai tre oggetti a caso Ma era tipo Charlie's Angels Appunto Ma ho capito Ma partirei Preparato con tutto Il necessario Da spia Non è Oh stavolta ti do questo Prossima volta vediamo Eh ma è tanta roba Ma no Tre Erano tre oggetti Erano C'era Quella con lo specchietto Quella con il rossetto Ma dagli di tutti Dagli il budget Ma Io voglio sapere Dopo con che cervello Mi gioco Darkwood E Gurukuro Era la mattina A presto Perché Darkwood Me lo stanno consigliando Da tanti anni Però Non so se per me Però sembra figo Io sono di nuovo ucciso Io sono di nuovo Adesso mi faccio ammazzare Dal mostro Ma eccolo qua Ma scuso Facce la con me Allora Eh Hai fatto tu una lobby Ah dice per quello Ma non lo sai che Le Miu Miu e la Miu Le stanno rifacendo Come? Si si stanno rifacendo Le Miu 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 Imbecilli Ho trovato la chiave La chiave della Chiave di singolare Imbecilli Che dici imbecilli Deficienti Credino E puniti Allora Allora È la chiave della casa grande Large house Qual è? Qual è? Ma non sapete dove l'hai trovata Perché ci sono stato Venti volte Era in una cesta In una cesta Imbecilli Deficienti Impuniti Allora Cercate la Large house Sarà questa Vediamo Small Questa è small Ok Ok E allora sarà questa Quella large No ti ho visto Ti ho visto Questa è medium Ma vabbè Ma che cazzo E la large sarà Lì giù Ma noi la large È la casa dove eravamo prima Che siamo entrati Sai che ridere? No ragazzi Ti metto a piangere No di No ti immagini La casa grande Ah aspetta ma questa è enorme Questa non l'abbiamo mai vista E infatti era questa Let's go Si prosegue Sì niente Darkwood Aspetta Aspetta Prendi la palla Ragazzi Sono diventato un'arma Ah no Prendi la palla al volo Vai Ma attenzione Stozo Non volevo curarmi Tira No Goal del Napoli Aspetta Insigne Ma la palla al volo Che avevo nel basement Come c'è finita qua? Eh le palle girano Lino tu l'hai finito dei cuori poi Certo Volevo parlare dei titoli di coda? Aspetta Oddio Mi sono talmente rossi coglioni Gatto che ho fatto vedere la foto Nella mia carta di identità Alla chat Perché mi hanno rosto le palle Ma quanto dura scusa Il titolo di coda 25 minuti Ho fatto vedere Di orologio Sì sì No 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 È verso 20 minuti tutti 20 minuti tutti Poi adesso non ricordo Se è anche quei 5 in più Però è stata La roba più devastante Della mia vita Ero lì Concordo Perché Te la spiego È interessante Perché Per tutto il gioco Ti raccontano Di un podcast E alla fine Cosa c'è? Ci sono I due I due del podcast Che fanno il podcast Ok? Ok Con le prove Con le prove Che i ragazzi Quelli che ti sono sopravvissuti Gli hanno mandato Ok? Ok Io ho trovato la chiave Del vici largo Stiamo giocando a palloni E che è il vici Sì Stiamo giocando a palloni Ok Ok E questi qui Se la chiacchierano Per i cazzi loro Durante i titoli di coda E non c'è niente Sì Le loro voci Di loro che si fanno I cazzi loro Quindi devi anche ascoltare Sì E ti fanno vedere Giusto di sfuggita Un paio di foto Ma senza neanche approfondire Che poteva essere Fighissimo E tutto così Per venti minuti E ad una certa Dopo dieci minuti Dopo un quarto d'ora Smettono loro di parlare Ho trovato Large bedroom E ci sono Che paura Che paura E qui il mostro Il problema Secondo me È che il pod È gestito male Cioè non mi sembra Un pod No 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 Sono voi che raccontano I cazzate Bravo E poi E poi Stanno zitti Per quello Per quello Stavo Per quello Ero lì dentro Ho trovato La large bedroom E un codice Che finisce con 18 Ok c'è Sopra E inizia con 68 68-18 E allora vado sopra Perché c'era un lock E no Bastardo Bastardo Ho trovato Un'altra stanza Dell'esorcismo io Ma ce n'è una In ogni casa Come funziona Aspetta c'è un problema Al chiurlo Mi sta inseguendo Quest'uomo di pelle Ti prego Stop it Right now Ah Ti ha ucciso Era diventato lui Il pagliaccio Per un attimo Ma che stai facendo Il codice qual'era? E no Questo qua No questo qua E No questo qui E uno di quelli A tre Ah allora ti incuri Comunque il gioco A me è piaciuto Ovviamente tanto Ovviamente tanto Ma si Guarda mi sono morti Giusto due Per una cazzata Che Allora È un minor spoiler Ok Tu sei seguito Da un mostro Di cui non faccio Troppe informazioni E poi sceglie Tra scappare E aprire la cella Ferrigorifera Nella mia mente Evidentemente C'è una bomba qui C'è la C4 Di TTT No Sono io Che ho messo il codice Allora L'altro codice All'ultimo piano È 726 Ma per caso Non mi preoccupate Sei morto Ma quando l'hai detto L'ha detto effettivamente Però non so dove sei Io non l'ho sentito Dove sei? Ma che erano Imbuniti Come dice il signor Musa Dove sono? Non lo so Ragazzi Vabbè Se non me lo so Se non me lo dici Ma se in questa casa Ci sei Sono in un Garage Sono al garage È un garage Ok Rispetto proprio Questi giovani di oggi Che fanno i buzzurri Grazie mille Gennaro Per le 12 sub Comunque vabbè A me è piaciuto Cioè proprio Perché mi sono divertito Con la chat Perché è uno di quei giochi Che ti fa Ma no Per me è loro migliore Tra l'altro Però al di là di questo Puoi scelgire tra scappare E la cella frigorifera Nella mia testa Va bene Basta che faccia Certo Alberto Mi accompagna signori Ok Sarà che io sono baccato Ma nella mia testa Se dici c'è la frigorifera Lanci un oggetto dentro Alla cella Il mostro Corre dentro E tu lo chiudi dentro Eh sì No che sì La protagonista Che cosa ha fatto? È entrata dentro la cella Si è chiusa dentro Ed è morta assiderata E io sono rimasto lì E dicevo Scusami Scusami No 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 ma ci sta eh E aveva il fucile no? Quindi da lì Poi tutto il padatrack Però è proprio Stavo dicendo che forse era un bug? No 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 Cioè ti doveva dare l'opzione Ma ecco ti lì Ti ho aperto la porta addosso No 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 Allora c'era il bug Che mi piaceva Non posso passare Come non vuoi passare? Ecco la rima di me E ho fatto Ah è veramente Il ragazzo aveva l'opzione Di chiudersi O di fare la trappola No il bug era Che il gioco praticamente Mi proponeva di salvarla Con tre vite Ma quello lì È un'opzione Che tira dopo Che è già finito il gioco Una volta Quindi non Non si poteva fare Ho trovato la chiave Per la Ma lui è qui con me Ho trovato la chiave Per la porta Per la casa piccola Ah perché Ok va bene Ti serviva un oggetto Sì un oggetto Me l'hanno detto Che se tu raccoglievi Un oggetto Inizio gioco Però porca troia Dove è l'uscita Di sta casa di merda Lì Ma che cazzo Lo so Lo so Lo so Che Me l'hanno detto Che dovevo trovare È stata Daniel Tra l'altro A dirmelo Via via Che cosa sto sentendo ridere Quella è la small Quella di fronte È quella di fronte È quella dove eravamo Ok No 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 Quella è quella dove eravamo prima C'è il garage Soldino curati Ma che mi devo curare Devo andare a mezzo Corri Mi devo andare Però mi sta bene Che se tu avevi l'oggetto Potevi fare Quella cosa lì Ma quella morte lì È veramente una troiata È veramente Me lo potevi fare meglio Quella lì è proprio Una morte A caso Che cazzo Entri nella cella frigorifera Ti chiudi dentro Per sbaglio Sicuro Vai tabula Guarda È una morte di merda Assolutamente Sì Può sicurarmi anch'io Ok pipì 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 fiorita io una reliquia l'ho trovata comunque ah sì è stato un martelletto del giudice era dentro insieme alla chiave della avanti finale 11 è la donna non sei triste e no stiamo proseguendo però non è proprio un credito meglio di quello di prima però è un gioco di quelli che io e gatto finiremmo per culo sempre come se facciamo come facciamo l'ultima oltre è molto interessante interessante questo gioco perché c'è un mostro clown ma troppa roba tra l'altro da vedere sì sì minchia è una serie di ho trovato un coltello sacrificale ho trovato il mio è un sacco di inchiostro posso metter su una merceria la chiave del bagno posso farmi la quello lì ma infatti c'è la frigorifera aveva anche la maniglia per dentro poi magari era rotta ok però era veramente tirato no è che non pensavo cari proteggimi tu è lì è lì l'incastrato guarda ma sì certo che si aprono anche dall'esterno per sicurezza metti che era vecchia ma molto fuori dalla casa ma molto fuori no è fa karim che come o bestia franco no ragazzi non ho stamina e mi sta sfondando il pustone stacchiamo bisognava bene l'erican però comunque ti attrezzi lei detto è morta aveva anche un fucile poteva sparare con il fucile alla porta volendo proprio proprio mamma che voglia me mio dio che essere terrificante io direi che possiamo chiudere io provo da colpire lo guarda mai dopo il picco anche io c'è lì sono pugni un secchio si tiro su mentre mi colpisce mai è ridiventato un beyblade bello perfetto bellissimo è una serata incredibile un gioco di una serata di gioco di mer però bello bello abbiamo parlato di freddo preferisco il freddo no cazzo preferisco il mostro tutta la vita proprio voglio chiedere rimborso però di quello di prima sai che non è proprio che bella idea il gioco più bello della giornata è flashing lights mamma mia recuperatevi la live di karim di oggi perché è stato è stato proprio bello è stato divertentissimo dai però ci siamo divertiti comunque dai abbiamo provato due giochi comunque che almeno sanno che meglio che non li ho comprato perché mi sembrano un po' terrificati va buono va buono noi che fanno deve andare a cuocare assolutamente sì lino assolutamente grazie per la compagnia mi raccomando sì 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 non mi raccomando stare attenti quando uscite portatevi i soldi in tasca in caso arrivi il mariolo così avete che cosa da dare bagnatevi la testa se uscite nelle ore calde mi raccomando certo e idratatevi idratatevi va bene dai passate una bella serata ci vediamo molto presto ciao belli ciao un saluto anche voi buonanotte belli vi mando dalino ciao karim grazie per essere stato con noi ciao belli no ho sbagliato ho scritto solo umido con due s grazie mille siete meglio del sassuolo e non lo so ci vediamo domani mattina col sababangio stasettimana ho suonato meno ma ho fatto comunque un po' di allenamento quindi domani mattina magari un po' meno sababangio nel senso che facciamo un'ora e poi dopo ci ci spacchiamo con qualche videogames ok allora diciamo ciao buonanotte belle domani ciao